Cambiano, hanno situazioni diverse, ma saremmo dei robot se immaginassimo che le questioni sono in qualche modo gestite in maniera, secondo le indicazioni del Vescovo, secondo le indicazioni di altri e quindi ci mancherà sicuramente una persona che approfondiva e approfondisce gli argomenti che affronta, una persona che ha avuto in questi anni il coraggio della schiettezza, il coraggio del dirci le cose come andavano dette, nel modo in cui andavano dette, ma anche questo è un elemento molto importante per sintetizzare a nome di tutta la comunità un grazie sentito, non formale, un grazie per tutto quell'insieme di cose che la più parte delle quali non sono note restano nel profondo del cuore di ciascuno di noi e nel profondo del cuore di questa comunità e che ci permettono oggi di essere un pochino diversi rispetto a qualche anno fa quando ci siamo incontrati la prima volta. L'idea di non interrompere un percorso, l'amicizia è un elemento che viaggia al di là delle distanze, degli impegni, è indubbio però che ognuno poi sarebbe, sarebbe, ritorna ai propri impegni ed è preso dai propri impegni. Credo che però dobbiamo immaginare che la gratitudine che dobbiamo a Don Gigi deve trasformarsi in una disponibilità a sapere che questa è una comunità aperta e accogliente nella quale in qualunque momento puoi ritrovare amici con cui hai fatto dei percorsi, altri con cui hai fatto altri percorsi, ma persone che ti hanno voluto bene e che ti vogliono bene. Dal punto di vista formale, siccome credo che sia un cultore di cose e di storia, ho pensato che fosse utile che tu avessi gli antichi statunitivi, ma così, se non li hai applicati per cui hai il modo di confermire. E poi, una stampa non incorniciata, non perché siamo tirchi, ma perché non abbiamo la più pallida idea di come tu sia attrezzato dal punto di vista della tua stanza, eccetera. E sarebbe stato estremamente scorretto usare una roba piuttosto che un'altra. Per chi non lo sapesse, negli antichi statunitivi, c'è anche un riferimento alla parrocchia di Sant'Antonino, perché come quelli di Sant'Antonino sanno, la parrocchia di Sant'Antonino è la prima parrocchia nata storicamente in Brahe, 1083, a della Marchesa dell'Aide di Susa faceva dono ai monaci di Bobbio, di una cappella cum fundo, dice il testo, la curtis monastica. Ecco perché il parroco di Sant'Antonino, lui non si è più fatto chiamare così, ma si chiama vicario, perché si chiamava, almeno fino a Don Dario Borello, perché il parroco era il vicario dei monaci. Si è avverata la profezia di Don Dario che diceva, dopo di me il mio successore non si farà più chiamare vicario. E in effetti così è stato, ma questa è soltanto una nota, come dire, un po' ironica anche per spezzare un po' questo magone che vedo che ci serpeggia tra queste parti. Comunque questo è importante ricordare, perché la storia è importante conoscerla e ricordarla. Grazie al signor sindaco, carissima Bruna, grazie al segretario, al caro Biagio, anche voi. Mi fa piacere, pur nell'emozione e nell'onore di essere in un luogo istituzionalmente così alto per la nostra città, mi fa piacere di vedere molti volti amici, in questi anni conosciuti in varie occasioni. Vi ringrazio di cuore di questo saluto, ci tenevo molto e quindi grazie. Mi è venuto in mente, mentre sentivo queste parole belle e sincere, che appena arrivato a Bra, nella fatica dell'inizio, è stato molto difficile passare da viceparroco a parroco, è stata molto difficile anche la situazione abitativa, non ero pronto. Nel 2003 a una macchina del tempo di quel genere, non me l'aspettavo. E' anche vero che questo ha fatto sì che ci fosse una gara di solidarietà, di aiuto incredibile, che non avrebbe potuto esserci, altrimenti, tant'è che dopo alcune settimane che ero a Bra e che si era saputo che c'era qualche piccola difficoltà, tra i tanti aiuti molto concreti. Insomma, la prima volta che ho potuto mangiare qualcosa a Sant'Antonino fu la notte del Natale, insomma, al dicembre dopo, perché mi avevano regalato nel frattempo un forno a microonde e qualche giorno prima una signora anziana della parrocchia era venuta a suonare e mi aveva portato due tazzini di caffè con un pacchettino di caffè dicendo che mi aveva saputo che non ha niente, le ho portato qualcosa. Allora ho potuto tagliare una pizzetta in quattro parti e mettendo il piattino da caffè dentro, scaldarlo e fare la prima cena. Ma questo non è tanto legato all'amministrazione comunale, questo è legato alla fatica, non alla volta, di tutte le istituzioni della Chiesa di progredire e di aiutarsi. Forse in questo non avevamo saputo star vicino al vicario Don Dario Vorello e invece ci fu questa vicinanza cittadina e parrocchiale. Però volevo dire, nella ridda dei ricordi questo si è infilato così in modo un po' drammatico ma sono cose passate, mi ricordo che appunto appena arrivato nella fatica di entrare e di non vivere di nostalgia perché insomma chi di voi ha cambiato, penso che anche sul lavoro tante volte sia così o nelle responsabilità che si hanno fino al giorno prima magari c'è una certa dimensione e il giorno dopo chiunque ti ricorda che non sei più quello là, in quel posto là, sei arrivato in un posto nuovo, sei l'ultimo arrivato, quindi un po' così. Ma mi ricordo che appunto per tentare di entrare con tutto il cuore, con tutto me stesso in bra, di per sé non mi venne, sarebbe stato un po' più santificante forse, ma non mi venne da fare un'ora di adorazione eucaristica o non sono andato a cercarmi una talare da indossare che forse mi avrebbe aiutato di più a entrare nel ruolo. In realtà decisi di venire subito qui all'ufficio anagrafe a prendere la cittadinanza ed era la prima volta che cambiavo cittadinanza, non avevo preso la cittadinanza Carignano come viceparro, come mi ero ben tenuto la mia cittadinanza dell'Alto Canavese, chiaro. E invece siccome essendo mia mamma da parte del papà originaria di Carrù, e voi ben sapete che fuori dalla provincia di Cuneo, dove è un grande onore se da provincia di Cuneo, si fa la battuta sulla provincia di Cuneo. Noi dicevamo sempre a mia mamma, ma cosa vuoi dire che sei di Cuneo tu, ecco? Allora, insomma, mi sembra significativo a parte gli scherzi che in quanto cittadino il modo per entrare in parrocchia, per sentirmi della parrocchia e di una comunità, l'idea sia stata quella non di mettere una targa fuori dalla parrocchia, una foto mia in ufficio parrocchiale dopo quella del Papa e del Vescovo che istituzionalmente ci tocca mettere, come penso da qualche parte, quella del Presidente della Repubblica, no? Per voi e per noi, in quanto cittadini, insomma. Ma, ripeto, venne a prendere la cittadinanza breidese e in questi anni mi ha fatto piacere averlo potuto fare. Sarebbero troppe tante le cose da dire, vorrei solo ancora aggiungere. Anzitutto grazie per l'esperienza che ho potuto fare anche nel rapporto con voi istituzioni, la porterò, mi sarà cara, mi sarà utile. Insomma, ho fatto l'esperienza come parroco sulle ossa dei breidesi e quindi forse, se il Signore mi aiuterà, farò qualche errore in meno con i naschesi, con i nuovi parrocchiani e con i nuovi cittadini. Perché è una cosa bella che mi piace dell'incarico del parroco e che ci viene ricordato che il parroco è mandato in un luogo per tentare di essere pastore di tutti, di tutti coloro che abitano in quel territorio lì, che gli appartiene, non semplicemente di coloro che frequentano la parrocchia, la chiesa, ma di tutti. In questo senso forse c'è un grande parallelismo, anche un desiderio di collaborare come istituzioni. Qui ho potuto collaborare tantissimo con voi, come è già stato detto. Non so se è possibile replicarlo da altre parti, spero di sì dove andrò. Di certo vado via con un'esperienza positiva, appunto, di chiarezza, di distinzione dei ruoli, ma anche della coscienza che il termine ultimo a cui dedichiamo le nostre energie è il bene dei cittadini. Ancora una cosa, grazie davvero del regalo. Grazie tante. La stampa di sicuro credo che la metterò non solo nella mia camera, ma nell'ufficio in modo che chi viene a cercarmi sappia che ho qualcuno alle spalle, che non arrivo da solo. E del libro grazie, perché in parrocchia c'è già questo, ma è bene che un parroco non lasci spoglia alla parrocchia quando va via, quindi non avrei potuto portare via questo. Invece questo lo considero mio e quindi farà parte della mia biblioteca e mi farà piacere continuare ad approfondire alcune di queste pagine che ho già avuto modo di guardare in questi anni. e penso che ci sia già più di quello che c'era da dire. Grazie di cuore. Grazie. Grazie. Grazie di cuore. Adesso se qualche consigliere vuole unirsi brevemente, prego, forza Sant'Antonino. Ci distinguiamo sempre anche negli addi, anzi, negli arrivederci. Ma io sarò brevissimo perché Don l'ho già salutato, lo saluterò ancora per bene. Gli ho già detto che andremo a trovarlo, non so se l'ha presa come un augurio o una minaccia, ma insomma sa che, come ha detto il Sindaco, non finisce qui il percorso che abbiamo iniziato, ma con te andremo sicuramente oltre perché il legame che si è creato è molto più forte. Io sentivo le parole di Biagio. Questa volta uso il nome dell'amico e non il nome del Presidente del Consiglio e del Sindaco e mi unisco a quello che hanno detto. Vorrei aggiungere proprio una cosa. È vero, noi eravamo un po' preoccupati quando sei arrivato, ma per me, per Biagio, per Costanzo, per chi ha vissuto sotto un po' la protettrice di Don Dario Borello. Sicuramente è stato uno shock avere una figura nuova che arrivava da noi. Ma sei stato bravo perché ti sei reso subito non solo simpatico, ma tu sei una persona simpatica, ma sei riuscito ad accattivarti le simpatie dei giovani, che non è facile, non è semplice in questi tempi. E tu sei stato in maniera molto soft, molto serena. Sei stato capace di farti amici giovani e di farteli amici nel senso più bello del termine. Però non sei solo questo. Perché io, conoscendoti in questi anni, ho avuto l'opportunità di capire quale fine teologo tu sia. Tu sei una persona di spirito, ma sei una persona di ingegno. Sicuramente chi ti sostituirà è all'altezza della situazione, nulla possiamo dire. Certo però che il groppo in gola per l'amico che ci lascia, anche se solo per pochi chilometri, questo resta. Fortunati quelli che ti avranno come parroco, fortunati noi, perché comunque continueremo nella tradizione che tu ci hai insegnato e ci hai fatto vivere in questi anni. Non ti dimenticheremo, ma non è un modo di dire, perché hai insegnato veramente le nostre vite. Per chi è nato e vissuto a Sant'Antonino e chi, anche se oggi le parrocchie un po' si mischiano, non so, ma non ho capito ancora bene come andremo a finire, ma non è questo l'importante. Per chi porta Sant'Antonino sempre nel cuore. Ecco, tu sei stato uno dei nostri pilastri e il grazie che noi oggi ti vogliamo dare a nome, non soltanto del Consiglio Comunale, ma di tutta. Bra vuol proprio significare e manifestare questo grazie alla persona, all'uomo, ma anche al sacerdote che ha saputo accompagnare e comprendere le difficoltà di questi tempi, le difficoltà delle persone e a cui non è mancata mai la parola buona, ma non è mai mancata la preghiera da parte tua, che è la cosa più importante. In bocca al lupo, Don Gigi, da parte di tutti noi. Grazie. Bene, mi pare di capire che non ci siano altri interventi, quindi lasciamo Don Gigi ai suoi ultimi impegni braidesi. Sì, sì, da foto, sì, sì, certo, certo. Andiamo fuori. Benissimo. Grazie. 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 Buonasera. Diamo allora inizio al Consiglio Comunale, come sempre con l'esecuzione dell'inno nazionale. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie a tutti. Buonasera. 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 Grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti. Quest'ultimo episodio, perché si accennava al fatto che fossero già caduti degli altri episodi, non so in che numero e in che circostanza, quest'ultimo episodio, quello di inizio giugno, aveva interessato un'area di circa mille metri quadri e soprattutto si trovava vicino a un deposito di stoccaggio di materiale combustibile dell'olio esausto e delle bombole di ossigeno. Fatto questo ovviamente che sia il sospetto dell'origine dolosa dell'incendio che pone della preoccupazione e sarebbe opportuno, come credo sicuramente il sindaco starà facendo, capire qual è lo svolgimento delle indagini al riguardo, visto che si parla in questo momento di ipotesi di dolo e non di dolo accertato. Per quanto riguarda invece il secondo episodio, il verbale, ci sono due verbali, quello del comando dei vigili del fuoco di Cuneo e della centrale di Alba. Non posso che prendere atto del verbale, dal punto di vista tecnico devo dire che c'è qualcosa di anomalo, nel senso che da una parte i vigili del fuoco sono stati chiamati da alcuni residenti per un rumore di supposto esplosione, come dichiarato negli stessi verbali del vigili del fuoco. Dall'altro, dal verbale dei vigili del fuoco, viene dichiarato che il fenomeno dello scoperchiamento di questa copertura interessava un'area di circa 50 metri quadri. Si tratta di una copertura cosiddetta di tipo sandwich, cioè metallica con isolante per la coibentazione. Non avendo trovato tracce di gas pericolosi o di punti ancora caldi, si dava l'ipotesi che fosse un fenomeno dovuto alla dilatazione termica della copertura. Le cose anomale che mi saltavano agli occhi erano essenzialmente due. Uno, il fatto che la dilatazione termica possa provocare un rumore di quel tipo e possa quindi avere un fenomeno così importante, soprattutto perché la chiamata è avvenuta alle sei e mezza di sera, quindi quando ormai il punto di temperatura più alta è già stato raggiunto nel corso della giornata, anzi siamo in fase di raffreddamento dall'altra. Invece una cosa che saltava di più agli occhi era che, secondo la dichiarazione dei vigili del fuoco, con il materiale isolante, che è materiale tipicamente leggero, era sparsi in un raggio di 50 metri. Ora, un fenomeno di apertura di una copertura può provocare il lancio di oggetti pesanti, gli oggetti pesanti vanno più facilmente a distanze elevate, gli oggetti leggeri molto più difficilmente. Il raggio di 50 metri è un raggio importante e quindi sia per l'ora sia per le notazioni che facevo avevo qualche perplessità sull'effettivo meccanismo dell'avvenuto incidente, ma sono solo supposizioni. Una cosa che mi sembrava importante, ringraziavo prima il sindaco per la sollecitudine con cui mi aveva fornito il materiale che avevo richiesto. Siccome parliamo di incidenti di natura doloso, me non hanno nessuna importanza, importanti che sono vicini ad aree residenziali, sarebbe stato per me opportuno non apprendere semplicemente dagli organi di stampa, perché l'abbiamo appreso qui con l'interrogazione che erano accaduti questi fatti, ma che dagli organi di stampa, per esempio con la rassegna stampa comunale, se ne fosse data notizia, se magari avessimo affrontato l'argomento in una capigruppo, in una commissione che si ritenesse opportuna. Riguardo a questo quindi solleciterei, soprattutto per quanto riguarda il primo episodio, quello del supposto dolo degli incidenti, appena si hanno notizie del svolgimento delle indagini, da parte del sindaco, che ci si incontri, in una capigruppo, in una commissione di sicurezza, dove si ritiene opportuno per discutere della vicenda. Grazie. Grazie. Proseguiamo allora adesso con le interrogazioni, quelle ordinarie, diciamo così. Prego sia i proponenti che coloro che rispondono di attenersi ai limiti di tempo. Allora, la interrogazione successiva, a firma dei consiglieri sommagli, Elena Marengo, Tripodi e Panero, riguarda la situazione attuale dei migranti e questioni legate, riperimento, soluzioni abitative e eventuale tassa di soggiorno a carico delle strutture. Prego uno degli interroganti di illustrare l'interrogazione. Prego, consigliere sommagli. Grazie, Presidente. Insieme ai consiglieri Elena Marengo, Tripodi e Panero, volevamo conoscere la situazione attuale della faccenda migranti, che ci era stata esposta a seguito degli incontri avvenuti in prefettura, da parte del Sindaco e dell'Assessore Fogliato, sia per le tempistiche di eventuali arrivi, sia quali sono oggi l'iter del reperimento delle situazioni abitative. e non ultimo, se venire a conoscenza, se è previsto per quelle strutture che siano strutture alberghiere o privati che mettono a disposizione appartamenti o altre situazioni in locazione, se è prevista a carico di costoro il pagamento della tassa di soggiorno equiparata a qualsiasi altro tipo di di forma di recettività. Bene, grazie consigliere. La risposta è a cura dell'Assessore Fogliato. Grazie. Beh, prima di andare a esporre i dati da voi richiesti nell'interrogazione, mi occorre fare una opportuna precisazione in base al testo da voi scritto. Cioè vale a dire che non vi è mai stato né da noi comunicato nessun accordo fra il Comune di Bra e la Prefettura. Poi scendo nei dati, però nelle premesse alla richiesta parlate di un accordo sottoscritto con la Prefettura per l'accoglienza dei migranti. Non abbiamo mai comunicato, perché non c'è mai stato, nessun accordo fra Comune di Bra e il Prefetto, la Prefettura di Cuneo. Ecco, questa non... ma con questo era solo una precisazione, però opportuna, poi scendo... Il riferimento è un'omissione, era alla SPAR di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi. Cioè il progetto SPAR, la procedura SPAR, sì, però anche la procedura SPAR non prevede nessun accordo fra gli enti locali e la Prefettura, ma la procedura SPAR è una procedura che fa capo al Ministero dell'Interno dove si fa un bando e dopo di che vi è la cooperativa o l'atti fra cooperative che vincono il bando che si aggiudicano la gara, ecco, in questo senso. Detto questo, passo a rispondere a quanto l'avrei richiesto. L'attuale presenza sul territorio comunale di persone richiedenti asilo ammonta 23 persone su 27 posti disponibili, così distinti. numero 7 posti in procedura SPAR, perciò a livello Ministero dell'Interno, sui quali il Comune svolge un ruolo di diretto coinvolgimento, perché in questo caso per i 7 posti tutti occupati, questi 7 posti, il Comune insieme ad altri comuni della provincia di Cuneo, a suo tempo con Capofila, il Comune di Cuneo, aveva fatto una gara, vi è stata un'atti di cooperative che si sono aggiudicate che hanno il compito di gestire le 7 persone. Inoltre vi sono 16 posti CAS, che vuol dire accoglienze definiti da accordi contrattuali tra Prefettura e soggetti privati derivanti da bandi pubblici attivati dalla Prefettura. Questi sì sono accordi con la Prefettura, ma non dell'ente locale, non del Comune, ma o di soggetti privati oppure delle cooperative. Su questi 16 posti CAS occupati, su 20 disponibili. 4 posti in attesa di inserimento da parte della Prefettura. Sia per quanto concerne i posti SPRAR, sui quali il Comune svolge un ruolo di diretto coinvolgimento, sia per quanto concerne i posti CAS, sui quali il Comune non può svolgere ai sensi della vicenda normativa un ruolo né amministrativo né gestionale, in quanto funzioni riservate alle Prefetture, la presenza sul territorio comunale di persone ritenenti asilo si configura quale accoglienza diffusa in singole unità abitative e non quale concentrazione in strutture ricettive alberghiere o similari. In ultimo, ad oggi non sono presenti strutture alberghiere che prestano servizio di accoglienza. In ogni caso, l'attività di accoglienza non si configurebbe quale attività ricettiva soggetta al pagamento della tassa di soggiorno, ma quale servizio prestato nei confronti della Prefettura a fronte di un contratto di appalto affidato ai sensi del vigente codice degli appalti. Grazie all'assessore, eventuale replica. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente. In realtà noi avevamo anche chiesto, appunto, oltre alla situazione attuale, quello che ci era stato più volte nelle commissioni capigruppo comunicato, e cioè il discorso che si era creato questo accordo proprio con la Prefettura, era stato detto, ce l'avevate detto in tutte le salse, che bisognava firmare questo accordo perché avremmo avuto tre persone in riferimento di ogni mille abitanti, altrimenti la Prefettura avrebbe agito in maniera autonoma. Come no, sessore? Ce l'avete detto in tutte le salse, è possibile e immaginabile. Forse, non so, allora penso che abbiamo veramente capito male tutti. Cioè, in questo momento lei mi sta dicendo che non sono previsti arrivi per il futuro, Abra? Mi ha chiesto una cosa diversa, perché c'è l'accordo. Ok. Voi ci avevate detto, dobbiamo fare questo accordo con la Prefettura di tre migranti in ragione di ogni mille abitanti, altrimenti la Prefettura avrà le mani libere e potrà disporre, come crederà più opportuno, dell'arrivo sul territorio bridesi di migranti. Tant'è vero che non ci siamo inventati il numero di 65 migranti in arrivo, perché insieme ai 24 che erano già presenti, facevano quel numero topico che è 89, che era il massimo di capienza possibile per il Comune di Brà, che ha poco meno di 30.000 abitanti. Ora, possiamo anche andare in giro con l'anello al naso, però non ce lo siamo inventati. Questi numeri non ci siamo trovati a diffondere voci che non fossero uscite da quelle che erano le comunicazioni durante le conferenze capigruppo. Quindi io questa sera prendo atto del fatto che l'amministrazione non risponde, nel senso che questi 65 migranti arriveranno, se sì in quali tempistiche, e quali saranno il riperimento delle soluzioni abitative della loro collocazione. Ci avete detto in tutte le salse che non li volevate concentrare tutti insieme, che tant'è vero che paventando l'opportunità che a Pollenzo ci fosse un'unità alberghiera che poteva dare ricevimento e ricezione a un cospicuo numero di migranti, voi ci avete detto che preferiamo una soluzione diversa perché non vogliamo concentrarli tutti insieme, ma per un migliore inserimento nel tessuto urbano preferiamo distribuirli e cercando quindi soluzioni abitative che possano contenerne al massimo 4 o 5, esattamente come è successo fino ad oggi. Faccio l'esempio di Viaturati, dove mi sembra ci siano 15 persone suddivise su tre appartamenti diversi. Questo era il senso della nostra interrogazione, perché dal momento in cui abbiamo ricevuto queste notizie tutto taceva. Lo stesso sindaco in alcune occasioni ci aveva detto che si era fatto interprete col prefetto chiedendo di ridurre il numero di persone proprio perché in questi anni Brahe era stata interessata già dal fenomeno delle REMS e che quindi avevamo accolto queste persone sul territorio braidese e che un'ulteriore accoglienza di questi migranti avrebbe potuto creare problematiche nell'accoglienza. Tant'è vero che alcuni consiglieri, ricordo il consigliere Maggiù e il consigliere Allasi, avevano manifestato la loro obiezione dicendo che c'era poco da spartire fra le due casistiche, cioè fra i migranti in arrivo e le REMS proprio perché istituti totalmente diversi. Quindi non posso dire che siamo soddisfatti della risposta che abbiamo avuto. I dubbi che avevamo continuano, restano. Naturalmente non demordiamo, pretendiamo come consiglieri comunali di essere informati di quello che avviene sul nostro territorio. Grazie. Allora, mi pare che il tutto sia però generato da una sorta di equivoco di fondo e in base a questo io autorizzo ma 30 secondi all'assessore Fogliato a ulteriormente specificare meglio perché altrimenti si rischia di non comprendere. perché l'interpellanza dei consiglieri parla di accordo sottoscritto con la Prefettura. Mi pare che l'accordo sottoscritto non ci sia, forse di qui è nato l'equivoco. Per cui, consigliere Fogliato, per favore però, ripeto, nel minimo tempo possibile. Un modo velocissimo e poi parleranno i verbali delle conferenze a capigruppo dove sia io che il sindaco siamo venuti sempre a esporre. Esiste una normativa nazionale dove abbiamo sempre detto nazionale perciò non accordo enti locali e prefettura che stabilisce... è una normativa nazionale che fa seguito all'accordo Ministero-Anci che parla di tre ogni mila abitanti. Perciò è una normativa nazionale non è accordo enti locali e prefettura. Con l'assolvimento della normativa nazionale può scattare una salvaguardia rispetto ad accordi privati, prefetto privati, gestori di alberghi, proprietari di alberghi, cooperative, queste cose, non di accordi fra enti locali e prefettura. Pertanto, in base a quello che vi avete chiesto, noi non abbiamo mai né comunicato né sottoscritto un accordo tra il Comune di Bran e la Prefettura. Abbiamo il dovere, come tutti gli enti locali, di rispettare, fino a cambiamento normativa, l'accordo Ministero-Anci che stabilisce il tre ogni mila abitanti per sfrascattare la clausa di salvaguardia. Nella conferenza Capiruppo abbiamo comunicato il fatto che il Prefetto ci aveva messo a conoscenza di una possibile disponibilità di privati, proprietari di un albergo sito in Pollenzo, per l'accoglienza, per fare un accordo privato fra questi proprietari e il Prefetto, sul quale abbiamo sempre detto che l'ente locale Comune di Bran non è d'accordo. Per riuscire a evitare questo accordo e pertanto fa scattare la clausa di salvaguardia, il Comune di Bran ma come qualsiasi altro ento locale deve cercare pian pianino di andare a rispettare la normativa nazionale accordo Anci-Ministero e non Prefettura. Perfetto. Direi di no. No, perché altrimenti scusate. Scusi, il Consigliere Panero lei non ha la parola. Abbia pazienza. Fino a prova contraria. No, abbia pazienza. No, allora, mi scusi, fa caldo fuori, non faccio il qui, ce l'ha recondizionata, stiamo tranquilli e stiamo sereni. Per cortesia, la parola il Consigliere ce l'ha quando la chiede. Punto primo. Punto due. Evitiamo di fare dibattiti, domande, risposte, contro risposte e contro domande. L'interrogazione è stata presentata, la risposta è stata data, la replica è stata fatta, l'assessore ha chiesto la parola per specificare ulteriormente il contenuto, anche perché, scusatemi, nella interrogazione a monte c'è un errore, perché non c'è stato nessun accordo sottoscritto con la Prefettura, quindi l'errore, scusate, è scritto nell'interrogazione da parte degli interroganti e non dell'assessore, io richiedo che sia chiusa qui la discussione. Prego, Consigliere Panero, chiedo scusa, però posso sapere per quale motivo chiede la parola? Per l'errore, appena, è capitato, la parola della maggioranza non è stata nessuna deroga e poi qui non c'è maggioranza o minoranza. L'assessore ai servizi sociali mi ha chiesto la parola per esplicitare e correggere e per chiarire un equivoco di fondo ingenerato dal testo della interrogazione. Io l'ho detto prima, per chiarezza nei confronti di tutti i consiglieri l'assessore doveva specificare meglio perché si è trattato di un errore a monte. Questo è. Abbiate pazienza, ma non ritengo necessario ulteriormente dare la parola quindi consigliere Somaglia, prego. Eh no, perché altrimenti saremo nella stessa condizione. Cioè, abbiate pazienza. Perché poi scusate, i proponenti sono cinque, giusti, legittimamente. Se ciascuno chiede di poter intervenire l'interrogazione finisce tra un'ora. Cioè, abbiate pazienza. Cioè, allora, consigliere, facciamo così, una mediazione. Consigliere Panero, se il suo intervento si limita a tre battute, io glielo lascio fare. aspetto una sua risposta, consigliere Panero. Quindi Panero diventa Marengo? va bene, prendiamo atto delle risposte dell'assessore, ripresenteremo l'interrogazione, prendiamo atto anche però che non c'è stato risposto, nel senso che non c'è stato detto con i termini indicati dall'assessore, se da adesso in poi arriveranno altre persone sul territorio. Punto. questo era il nostro, era il senso della nostra interrogazione, prendiamo atto che non ci viene risposto. Perfetto, io però mi devo, ovviamente non entro nel merito delle risposte, mi devo attenere alla forma e al rispetto delle regole. Quindi i contenuti in questo momento sono di secondaria importanza per la mia funzione. Passiamo alla seconda interrogazione, i proponenti sono sempre Panero, Tripodi, Somalia, Marengo e Delle. richieste di aderire al progetto Trip City Map comune, qui permettetemi, permettetemi una battuta, geodogitale, non vorrei che ci fosse una nella metacomunicazione che la nostra città è una città da cani, dog, in realtà sarebbe ovviamente comune, geodigitale. Prego uno dei proponenti, consigliere Panero. Grazie Presidente. mi scuso per quello che è appena successo per l'interrogazione precedente. Allora, sì, prima cosa che voglio dire appunto è un mero errore di battitura e ovviamente ma si capiva come secondo me si capiva anche il senso delle interrogazioni prima un comune geodigitale. La richiesta è di aderire al progetto Trip City Map comune geodigitale sottoscritti i tripodi Panero, Somalia, Elena e Marengo in quantità di consiglieri comunali chiedono a questa amministrazione se vi è l'intenzione di aderire alla piattaforma Trip City Map un'applicazione per smartphone che consente di geomappare al suo interno i punti di interesse della nostra città per offrire alla popolazione e ai turisti un servizio gratuito ed innovativo. Grazie. Aspetto la risposta mi riservo la possibilità di replicare grazie. Naturalmente risponde il sindaco rispondo sostituendomi all'assessore Cravero che è assente per lavoro e per dirvi che Trip City Map è un'applicazione gratuita attraverso la quale la municipalità può geomappare i propri punti di interesse definiti oltre che dalle loro coordinate geografiche anche da relativa scheda di dettaglio con descrizione riferimenti informazioni aggiuntive galleria fotografica calcolo del percorso automatico eccetera l'applicazione espressamente indicata dagli interroganti è solo una delle tante simili e nemmeno delle più utilizzate dai comuni italiani come già assicurato in una risposta precedente ad una precedente interrogazione consigliare di alcuni mesi fa il comune di Brà si sta muovendo per assicurare ai cittadini e turisti il servizio suddetto integrato da molte altre opzioni percorrendo tre strade la prima la trattativa in corso per l'ingresso di Brà nel circuito delle app municipium distribuito dalla Maggioli SPA fornitrice della nuova piattaforma informatica generale del comune questa app fornisce diversi servizi comunicazioni efficaci tra comune e cittadino notizie di utilità eventi geolocalizzati e abbiamo identificato seguenti aree servizi di interesse tutte facenti capo alla stessa app tipo rifiuti smart si ha a disposizione il calendario digitale e impostare il promemoria automatico che ricorderà che cosa conferire in strada altrimenti la mappa di tutti i punti di raccolta e conferimento per tutti inoltre il glossario dei rifiuti la dislocazione di orari degli ecocentri la prenotazione del ritiro dei rifiuti degli ingombranti eccetera mappe interattive dagli uffici comunali fino alle sedi di associazioni negozi e molto altro ancora luoghi interesse del comune organizzati su mappe interattive corredati da schede informative segnalazioni suggerimenti con l'app è possibile inviare segnalazioni sicure riservate già organizzate dal cittadino al comune con la possibilità di inserire foto e una semplice descrizione geolocalizzata eventualmente in futuro anche multe smart che ti consente di pagare le multe in mobilità in modo rapido di consultare le sanzioni del codice della strada che ci riguardano tramite carte di credito riconosciute nella piattaforma Paypal sondaggi una sezione semplice e intuitiva nella quale si potranno proporre sondaggi e consentire ai cittadini di esprimersi su questioni di interesse pubblico secondo sviluppo in corso da parte del nostro servizio di protezione civile di un'app specifica dedicata agli organi di protezione civile comunali con una parte riservata ai semplici cittadini contenente segnalazioni di allerta di eventuali eventi di protezione civile con le indicazioni da seguire per i cittadini stessi terzo stiamo valutando anche se nei primi tempi non sia opportuno affiancare ancora un servizio di messaggi push mediante sms dedicato ai cittadini che non posseggono uno smartphone ma un semplice telefonino entro la fine di quest'anno uno o più dei suddetti servizi sarà attivato grazie al sindaco consigliere paniero prego grazie signor sindaco per la risposta sì appunto Trip City Map è un'applicazione per smartphone destinata a turisti e cittadini che cercano tra i punti di interesse del territorio ristoranti hotel musei i parcheggi le stazioni i servizi i negozi le attività commerciali gli eventi le farmacie e molto altro un progetto che potrebbe far emergere secondo noi Bra nel contesto delle utilità digitali per il turismo e la cittadinanza si può decidere di aderire a Trip City Map per offrire ai braidesi e ai visitatori uno strumento all'avanguarda seguendo così altri comuni della zona adesso l'hai citato che non è la più utilizzata basta andare sul sito per vedere come se Maria Bosco Saluzzo Racconigi Lamorra Sarigliano sono veramente tanti hanno già aderito grazie all'applicazione gratuita per smartphone e android tutti i cittadini potranno ricevere sul proprio smartphone compatibili aggiornamenti e informazioni importanti derivate direttamente dall'amministrazione pubblica comunque oppure cercare tra i punti di interesse inserite all'interno della città attraverso delle comode categorie per i turisti invece sono previsti aggiornamenti in tempi reali sui principali eventi della città consultabili direttamente con un semplice gesto tutti i punti di interesse della città possono disporre di una galleria fotografica di una descrizione del percorso più rapido per raggiungerli dei numeri di telefono e tanto altro che la garanzia di un sistematico aggiornamento che deve avvenire da parte degli uffici preposti del comune che aderisce quest'ultima attività può essere integrata dalla partecipazione degli stessi cittadini segnalando lo staff pubblici e privati presenti sulla mappa le possibilità che i cittadini non finiscono qui Trip City Map include già più di 30 città piemontesi permettendo così di utilizzare così gli utilizzatori di aderire alle informazioni di molteplici luoghi con una sola app per l'amministrazione sarà possibile comunicare con i cittadini con l'invio di messaggi del contenuto più varie emergenze di protezione civile modifiche la viabilità cittadina promozione di eventi culturali eccetera appunto questa piattaforma penso che sia simile molto simile anche a quella che il sindaco ha appena enunciato qui c'è anche la tabella degli eventuali costi per aderire e devo dire che sono veramente vanno da un minimo annuale di 450 euro a un massimo di 2800 quindi con costi assolutamente contenuti anche qui le funzioni sono quelle di promuovere il turismo dotare i cittadini di capillare di informazioni e quindi di amplificare quello che sono questi servizi e soprattutto la conoscenza da questo punto di vista della nostra città tempo fa già altri consiglieri di minoranza avevano presentato un'interrogazione simile che chiedevano appunto un servizio per poter inviare sms e mail ma da allora non se n'è più saputo niente quindi questa interrogazione ha la funzione appunto di muovere di nuovo un po' le acque perché ogni volta che facciamo un'interrogazione lo si sta facendo è quasi finito ma poi adesso prendiamo atto e ci facciamo il nodo il fazzoletto che è stata fatta una promessa di tempo quindi entro fine anno qualcosa che sarà questa applicazione che sia un'altra diciamo per noi non ha grande importanza è importante che ci sia qualcosa e prendiamo atto che entro fine anno qualcosa sarà attivo e quindi aspettiamo fine anno grazie grazie interrogazione successiva Panero Tripodi Somalia Marengo D'Elena interrogano l'amministrazione per sapere se i lavori nella stazione ferroviaria si conciliano o tengono conto del progetto dell'interramento dei binari prego uno dei proponenti consigliere Panero prego allora lavoro di restyling stazione ferroviaria i sottoscritti Tripodi Panero Somalia Elena Marengo in qualità di consiglieri comunali di Bra alla luce della presentazione da parte di RFI del lavoro di restyling da 4 milioni di euro che cambieranno il volto della stazione di Bra con la realizzazione di nuove marciapiedi e pensilini e strutturazione dell'atrio nuovi servizi igiene rifacimento delle facciate eccetera intergano all'amministrazione per sapere se questi lavori della stazione si conciliano o tengono conto del progetto dell'interramento dei binari intervento fiore all'occhiello di questa amministrazione è più volte promesso con una cifra già spesa di circa 600 mila euro per il solo progetto preliminare grazie grazie risponde il consigliere delegato Ferrero grazie presidente ringrazio innanzitutto gli interroganti per aver definito fiore all'occhiello di questa amministrazione il progetto preliminare approvato dell'interramento dei binari per risolvere definitivamente la questione del PL e della cesura che divide in due la città riguardo al merito della domanda la risposta concreta e motivata potrebbe essere data solamente dai progettisti di Italfair e di RFI chi è partecipato alla presentazione del progetto del 21 ultimo scorso può testimoniare che sull'argomento della propedeuticità dell'attuale intervento rispetto al progetto approvato dell'interramento non è stato fatto alcun cenno da parte del direttore di RFI né alcuna comunicazione in tal senso è stata fatta dall'amministrazione tuttavia dalla descrizione dei lavori da parte di RFI dalla visione del progetto dalla sequenza dei lavori elettrificazione adeguamenti tecnici degli impianti restailing completo del fabbricato non si può non rilevare che alcuni si possano considerare e riconoscere come anticipatori del progetto più ampio quali ad esempio l'abbassamento di 70-80 cm del piano del ferro sotto il ponte di Via Cuneo faciliterà il raccordo tra la quota di meno 7 metri dell'interamento alla piena linea dopo il ponte due dei tre ascensori in via di installazione i due estremi potranno verosimilmente essere utilizzati per l'accesso ai due marciapiedi sotterranei previsti dal nuovo progetto il rifacimento dei servizi di igienica che passano da 2 a 3 di cui uno è dedicato ai portatori di handicap è un intervento definitivo il restailing completo del fabbricato è prevedibile che duri nel tempo il rifacimento della pensilina tettoia storica tra il fabbricato e il primo binario è destinata a rimanere tale e si potrebbe continuare quindi una parte dei costi sostenuti nell'attuale intervento non dovranno essere ripetuti nella fase attuativa del prossimo se la domanda invece è riferita al rifacimento in atto dei marciapiedi 2 e 3 per portarli ad H55 dal binario delle relative pensiline del rifacimento della parimentazione del PL la risposta crediamo a lume di buon senso ma tra gli interroganti ci sono professionalità in grado di valutarla tecnicamente non possa che essere negativa quegli elementi richiederanno di essere demoliti in quanto parte di progetti completamente diversi concludendo crediamo si possa ritenere che parti importanti dei lavori in via di esecuzione possono essere conservati anche nell'attuazione del futuro progetto e che le parti che dovranno essere inevitabilmente demolite avranno nel frattempo reso un servizio tale che valeva la pena essere realizzato subito grazie al consigliere delegato Ferrero prego consigliere Panero grazie grazie presidente allora avendo anche in prima persona partecipato il 14 luglio scorso appunto la presentazione da parte di RFI sulla nuova stazione di Bra dove ci è stato presentato anche questo bello puscolo dove da qui andiamo in maniera sintetica ma comunque chiara ad evidenziare come verranno vengono stanno sono spesi 4 milioni di euro per l'intervento sulla stazione premettiamo nessuno contrario a questo intervento e capiamoci qui il senso dell'interrogazione è un'altra e andiamo a spiegarlo perché abbiamo capito stasera che con l'italiano meglio che spendiamo due parole in più perché non siamo più delle volte molto chiari quindi nessuno contrario a questo intervento intervento appunto che in via sommaria prevede interventi di ristrutturazione sul fabbricato marciapiede e pensiline con gli ascensori i sottopassi con ben quattro ascensori se non mi se non mi sbaglio e tanto di rendering e disegni parte anche molto da mio punto di vista interessante è stata anche la storia questo lo faccio proprio come preambolo della stazione ma tutto questo premesso mi preme invece partire proprio dalle prime parole che sono state dette dal consigliere delegato che ha risposto all'interrogazione e cioè domanda alle quali deve essere diciamo posta ai tecnici di RFSI e questo ci lascia assolutamente perplessi prima di tutto perché da tecnico quando uno prevede un intervento di ristrutturazione su un fabbricato e sa già che questo nei pensieri nelle idee nei sogni dovrà essere poi oggetto di un intervento di quel tipo non può pensare di spendere 4 milioni di euro e non prendere in considerazione quell'aspetto le stesse cose che ci sono state dette che alcune cose andranno demolite e rifatte io capisco che la ristrutturazione è un intervento che durerà nel tempo questo significa allora che l'altro intervento forse non è così imminente o così diciamo di rimente o volevo dire altre cose ma meglio di no così attuabile tutto questo ci viene spunto andando a leggere andando a ricordare quello che è il programma elettorale di questa amministrazione dove alla pagina 13 scrive chiaramente lasciamo perdere altre parti permetterà inoltre di proseguire nell'iter di copertura dell'intero tratto cittadino della ferrovia di un futuro interramento della stazione ferroviaria agevolerà il progetto nel notica di risolvere in via definitiva il problema del congestionamento del traffico e non vado avanti a leggerlo tutto allora per quanto è quel poco di tecnico che noi possiamo capire e ribadisco assolutamente il fatto che nessuno è contrario a questo intervento anzi da questo punto di vista possiamo anche complimentarci del rapporto che il consigliere Ferrero assidui costanti del lavoro che è stato fatto per raggiungere questo obiettivo sicuramente però siamo perplessi perché sono stati spesi più di 600 mila euro in progetti e questo progetto non ci sembra in nessun modo che prenda chiaramente in considerazione quell'opportunità io ribadisco quando si parte col progetto e si prendono delle decisioni si spendono anche parecchi soldi non lo si può fare guardando al domani e non al dopodomani se ci fosse veramente un dopodomani quindi forse è ora di essere chiari di dire ai cittadini che quello era un bel sogno che magari si proverà ancora da qui a un paio di anni a ritirarlo fuori a riproporlo ma che questo intervento è una chiarissima esempio di come questo intervento sia tangibile reale avvenuto e il resto rimarrà sempre solo una promessa di questa amministrazione grazie signor Ferrero prego posso sapere per quale per la stessa motivazione del caso precedente eh no chiedo scusa però signor Ferrero no abbia pazienza signor Ferrero scusi qui non ci sono non ci sono state questioni di incomprensione del testo no 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 perché l'affermazione fatta in controbattuta dice una cosa non vera e se non vera consigliere Ferrero abbia pazienza non posso non posso non posso lasciare la parola per motivi che veramente non ravviso l'esigenza di una di una di una controreplica da parte sua abbia pazienza ma anzi apprezzo il fatto che abbia accettato quarta interrogazione i sempre i soliti cinque soliti nel senso precedente eh sia ben chiaro solito qui è usato in senso del tutto neutro quindi Elena Somaglia Marenco Tripodi e Panero che presentano un'interrogazione a proposito di un tratto di via Gabotto compreso tra i numeri civici 30G 36E e 21 29G e parlano di pericolosità dovuta al parcheggio di veicoli su ambo i lati della via quindi uno dei proponenti prego consigliere Elena grazie presidente come solito noto componente della banda no scherzo no solo molto molto brevemente ha già praticamente questa interrogazione l'ha già illustrata lei è nata dal fatto che alcuni siamo stati sollecitati da alcuni alcuni cittadini e anche personalmente per quanto riguarda questo tratto di via Gabotto che è compreso tra via Cocito e verso direzione Roreto adesso è attualmente molto frequentato in quanto con l'asfaltatura tra l'altro anche della strada di collegamento con Corso Monviso c'è un notevole passaggio di autoveicoli e quindi in questo tratto ci sono molto spesso dei autoveicoli parcheggiati sia da una parte c'è da tutte e due entrambe le parti della via e effettivamente è abbastanza pericoloso quando due macchine si incrociano e quindi c'è il rischio veramente sia per gli autoveicoli ma anche per biciclette o motoveicoli di creare qualche incidente quindi un'interrogazione è questa noi abbiamo anche dato eventualmente essendo un argomento di viabilità magari la disponibilità magari a portare l'argomento in commissione viabilità e vedere se è il caso di istituire almeno da una parte il divieto di sosta e visto che dopo nel tratto successivo la strada si allarga c'è in corrispondenza dove c'è quell'area dove c'è la cabina dell'Enel eventualmente si potrebbe magari studiare il discorso di tracciare dei parcheggi in modo che dare anche una congrua formazione alla zona anche dal punto di vista così perché effettivamente parcheggiando lungo i lati della via in quel tratto lì ci sono segnali di pericolosità grazie grazie il consigliere Elena e risponde l'assessore Messa sì in merito alla vostra richiesta è stato fatto un sopralluogo per valutare la proposta e sicuramente ci sono gli estremi per dettagliare la tematica pertanto in particolare per quanto riguarda la segnaletica verticale quindi le istituzioni del divieto ci sono gli estremi per fare dei ragionamenti rimaniamo pertanto disponibili ad approfondire nella competente commissione lavori pubblici nella quale potremmo anche valutare gli elementi positivi negativi che in questi giorni sono usciti fuori da alcuni ragionamenti devo però precisare che la realizzazione di un'area parcheggio nella zona da voi indicata che però è quella che paradossalmente ha meno problematiche di parcheggio rispetto all'intera zona naturalmente necessita di investimenti che dovranno essere riperiti nei capitoli specifici grazie grazie l'assessore prego consigliere Elena grazie presidente ringrazio l'assessore magari come ha detto magari una prossima commissione viabilità magari riproporremo l'argomento e ne valuteremo anche il discorso anche della io non ritenevo un grande investimento il discorso dopo intendevo soltanto veramente un tracciamento dei parcheggi nella parte comunque ne parliamo magari poi in commissione grazie ancora grazie proseguiamo interrogazione a firma del consigliere Claudio all'Asia sulla regolarità urbanistica edilizia del piano regolatore comunale vigente in particolare di un patrimonio di un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente in via Santa Maria del Castello prego il consigliere all'Asia grazie presidente lo scopo dell'interrogazione non è quello di andare a verificare il singolo piano di recupero ma un concetto generale e una regolamentazione generale che riguarda il piano regolatore ora per quanto riguarda questo piano di recupero e quello diciamo che ha fatto nascere l'interrogazione perché sono venuto a conoscenza che durante l'iter di approvazione di questo piano di recupero la commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico artistico paesaggistico o documentario ha espresso un parere un primo parere nel febbraio mi pare di quest'anno contrario a una parte del piano di recupero quello che riguardava una costruzione di un fabbricato ex novo in via Santa Maria al Castello quindi in centro storico collinare adducendo delle motivazioni di ordine urbanistico il comune in questo caso ha reagito e ha chiesto un incontro con la commissione e dai verbali della commissione regionale il l'originale parere è stato ritirato in autotutela in quanto il nostro comune ha sollevato delle eccezioni sulla competenza della stessa commissione ora considerando che non sono stati e non risultano almeno essere stati opposti dei pareri di merito o meglio delle contradduzioni sul merito del del parere espresso da parte della commissione ma solo un'eccezione formale allora a questo punto visto che i pareri il parere espresso dalla commissione regionale erano piuttosto puntuali dal punto di vista urbanistico che cepivano sulla regolarità non tanto per quello che ci riguarda per questo piano di recupero ma che aveva validità in senso generale per la regolarità della norma prevista nel nostro piano regolatore interrogo quindi il sindaco in quanto delegato alle funzioni dell'urbanistica sulle ragioni per cui questo rapidissimo intervento sia stato fatto in opponendosi con un rilievo formale e volevo sapere quali siano le azioni intraprese per recepire i rilievi di merito della stessa commissione riguardanti come dicevo prima la regolarità nel senso della normativa urbanistica del piano regolatore grazie al consigliere la risposta del sindaco allora io le farò pervenire una risposta come farò pervenire a tutti i consiglieri comunali una dettagliata risposta tecnica su questa vicenda credo però che ci siano alcune questioni molto semplici che debbono essere chiarite il nostro comune si è dotato di un piano regolatore approvato dalla regione Piemonte all'interno del quale vi è la possibilità nei centri storici delimitati ai sensi della presente legge o delle parti del territorio da guardare ai sensi dell'articolo 24 comprese nei piani regolatori generali redati in conformità alla presente legge sono ammessi interventi di cui alle lettere A, B, C, D eccetera noi questo abbiamo quindi un piano regolatore che ha avuto una sua evoluzione che ha avuto una sua approvazione e che è stato e che in questo momento è il documento che serve a questa amministrazione e a chi intende operare in questa città come riferimento come riferimento preciso relativamente alle possibilità di intervento detto questo all'interno di queste di questa del piano regolatore vi era la possibilità di effettuare interventi come quello previsto dal come quello in oggetto e proprio per questo la persona l'operatore ha fatto riferimento ai nostri uffici per chiedere il certificato di destinazione urbanistica da cui emergeva questa possibilità sulla base di un procedimento molto ampio in cui di cui l'ultimo passaggio è stato quello della commissione cosiddetta 91 bis ma ha fatto tutta una serie di passaggi con pareri favorevoli raccolti mano a mano nei diversi livelli quando è arrivata al 91 bis in una prima fase la 91 bis ha pensato non già di intervenire su questo specifico intervento ma di intervenire ponendo una problematica relativa al piano regolatore e il comune di Brà credo assai opportunamente è intervenuto a difesa dell'operato dei propri atti amministrativi perché io credo che il compito del di una amministrazione e dei dirigenti di un'amministrazione è quella del ovviamente se l'hanno presentato e se hanno seguito e se hanno ottenuto i pareri favorevoli credo sia quella che debbano essere difesi gli atti che si compiono tant'è che così come è avvenuto già in altre situazioni perché il contatto con la commissione 91 bis è un contatto che per lo più hanno i tecnici ma che avviene in modo soprattutto dopo la nuova legge regionale urbanistica è direi frequente ponendo degli elementi di abbiamo chiesto un'audizione a seguito di questa audizione la commissione 91 bis ha valutato di cancellare di non mi viene la parola di revocare il provvedimento preso in precedenza e di seguire viceversa il la procedura il procedimento che ci stava seguendo che ha determinato tutta una serie di passaggi con una serie di cose di cui non ho notizie perché stanno in un ambito assolutamente tecnico e quindi svolgendo la funzione che è pertinente che le era che era pertinente e quindi questa sera la discussione per quanto riguarda l'aspetto di tipo generale precedente è del tutto fuori luogo chiudo subito chiudo subito è del tutto fuori luogo oggi noi abbiamo una situazione nella quale è chiunque abbia delle degli interessi rispetto ad aree previste dal nostro piano regolatore ha la possibilità di poter intervenire questo è quanto grazie al sindaco replica del consigliere all'asia prego grazie presidente grazie al sindaco per la per la sua risposta ora è vero che la commissione la cosiddetta 91 bis ha ritirato il parere ma come dicevo prima ha e lo ha scritto nel verbale in cui ritirava il parere in autotutela ai sensi della legge adesso non mi ricordo il numero del 90 perché erano stati sollevati delle controdeduzioni in ordine alla competenza della commissione sul parere urbanistico che avevo offerto quindi è un ritiro del parere non perché la commissione ha cambiato opinione in merito a quello che aveva espresso ma perché ha in autotutela deciso di ritirare il parere per possibile difetto di competenza visto che i proponenti privati a quanto mi risulta hanno ventilato l'ipotesi di un ricorso al Tar proprio per un difetto di competenza difetto di competenza la commissione tra l'altro mi risulta che abbia sempre dato pareri anche in ambito urbanistico come consuetudine ricordo che la commissione è presieduta dall'assessore regionale ma quello che sollevava il problema che sollevava la commissione è un problema generale che riguarda il nostro piano regolatore ma entrava ovviamente nello specifico del piano di recupero e in pratica sosteneva che la casistica prevista dal nostro piano regolatore cioè di costruzione ex novo nel caso di lotti cosiddetti radi se ricordo bene o aree rade in centro storico è una norma del nostro regolamento della nostra programmazione che è in contrasto con la legislazione e nel parere espresso dalla commissione si diceva che nonostante quindi la presenza di una norma se questa va in contrasto con la normativa cioè la normativa prevede che non sia possibile non siano possibili costruzioni ex novo in centro storico però vi ha ragioni di tutela del paesaggio dell'assetto storico del territorio questa norma anche se prevista dall'ente locale rimane non valida e quindi poneva il diniego a questa proposta specifica perché riteneva la costruzione come ex novo ora detto questo l'eccezione sollevata quindi dalla commissione ha un rilievo tecnico molto importante è vero che il nostro piano regolatore ha passato tutta una serie ha avuto tutta una serie di passaggi e se ci fosse stato un errore allo stesso modo per cui la commissione in autotutela si è tutelata da un possibile errore per evitare di andare in un contenzioso con il tribunale amministrativo allo stesso modo a mio avviso visto questo importante parere tecnico il comune dovrebbe sincerarsi con gli organi regionali che queste eccezioni di merito siano o non siano sollevate dalla commissione regionale siano o non siano valide guardate che il nostro piano regolatore con questa previsione e il parere della commissione non è tanto campatenaria perché il nostro piano regolatore con questa previsione costituisce sicuramente un unicum cioè costruzioni ex novo in ambito di centro storico le prevediamo solo noi le prevediamo solo noi e questo è un unicum che preoccupa quindi con la stessa velocità con cui il comune si è mosso per sollevare l'obiezione di forma a mio avviso il nostro comune si dovrebbe muovere si doveva muovere con maggiore addirittura maggiore rapidità per verificare quanto veniva sollevato nel merito della commissione regionale e quindi risollecito sollecito questa verifica puntuale della regolarità del piano regolatore grazie al consigliere all'asia siamo le penultime due interrogazioni abbiamo ancora sì sì un quarto d'ora abbondante ma dovremmo farcela allora la penultima sempre a firma del consigliere all'asia come anche l'ultima riguarda il decoro delle aiuole di via piumati quindi prego il consigliere di illustrare grazie presidente allora chiedo scusa un attimo avvia pazienza sono momenti in cui uno rimpiange la carta cara vecchia matita e cara vecchia carta e cancellino scusa allora questa interrogazione parte dalla constatazione che le aiuole di via piumati mostrano per intenderci soprattutto quelle oggetto nate con l'intervento di rinnovamento urbanistico di via piumati mostrano segni di incuria ormai da parecchio tempo in particolare la pulizia e il diserbo delle aiuole e partendo da questa constatazione chiedevo di nuovo la carta da rimpiangere chiedevo quali erano le ragioni sì grazie che non me lo ricordo a memoria chiedevo quali sono le ragioni di questo di questo stato di incuria e grazie e in particolare dato che esiste un capitolato generale per quanto riguarda la cura e la manutenzione dell'area verdi quali siano i sistemi di controllo attivi per appunto la verifica dei lavori da esercire sulle aree verdi in generale e nello specifico per quanto riguarda via piumati grazie grazie risponde l'assessore messa sì per prima cosa voglio in qualche modo dire che alcuni anni la via piumati sicuramente è una condizione migliore grazie alla riqualificazione urbana che sicuramente ha portato benefici e migliorie estetiche nonostante ciò effettivamente le ruole nei giorni scorsi presentavano punti con presenza di erbacce tra le motivazioni c'è che l'estirpazione o l'essiccamento non può più avvenire attraverso l'utilizzo dell'erbicida glisolfato in quanto il ministero della salute ha emesso divieto di utilizzo nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili pertanto anche nelle nostre aree pubbliche non viene più utilizzato questo prodotto le operazioni di pulizia pertanto devono avvenire in modo più laborioso in ogni caso abbiamo chiesto alla ditta che effettua la manutenzione del verde di anticipare una delle quattro passate previste nel capitolato il sistema di controllo del verde avviene attraverso il dirigente lavori pubblici che opera in collaborazione con il capo cantoniere e con uno specifico cantoniere che si occupa del verde i quali verifichino in contraddittorio con l'impresa l'esecuzione dell'attività di manutenzione tendenzialmente con scadenza settimanale grazie all'assessore prego consigliere per la replica grazie grazie presidente ma sinceramente non ritengo che la spiegazione sulla mancata possibilità di utilizzare le arbicida sia una buona motivazione secondo me non c'entra nulla con la motivazione con l'interrogazione perché non c'è solo un problema di erbacce ma ad esempio c'è un problema proprio di pulizia ora lei vuole di via Piumati le posso osservare giorno per giorno settimana per settimana e mese per mese devo dire però che facendo anche delle ricognizioni in aree un po' meno visibili e un po' meno appariscenti come certe aree di via di via risorgimento di via abrizio mi ritrovo le stesse situazioni e a mio avviso queste aree sono manifestamente trascurate prive di adeguata cura e lo dico perché il capitolato sull'area verdi da da alcuni anni e nello specifico ad esempio per quanto riguarda la pulizia da carta lattine eccetera è previsto anche per questa iuola un passaggio una volta alla settimana cito solo un episodio facile pratico da comprendere quando è stato fatto sono stati fatti l'anno scorso i lavori per le tubazioni del teleriscaldamento sono passati sotto un tratto da iuola quando hanno ripristinato la iuola lo stesso operaio che ha reinserito ha reinestato diciamo gli impianti verdi ha lasciato una bottiglia nella iuola vuota sì sì l'ha bevuta mio figlio passante scherzo ma al di là della battuta questa bottiglia è rimasta per sei mesi è rimasta per sei mesi perché la pulizia in realtà avviene non a cadenza settimanale ma a cadenza trimestrale o semestrale questo è un primo problema e questo problema nasce sicuramente da qualcuno che getta i mozziconi sigarette eccetera ma se io lascio uno spazio incurato non curato facilito di più attrago di più passatemi il termine chiedo scusa Presidente i deficienti deficiente attira deficiente per cui la cura della iuola tra l'altro se il capitolato prevede che sia con una certa periodicità deve essere fatta con una certa periodicità diventa più difficile che qualcuno veda quell'area come un cestino per quanto riguarda la tosatura e la scerbatura comuni perché dicevo che la ragione dell'assessore non la ritenevo opportuna perché la scerbatura per quanto riguarda le siepi cespugli rosetti che riguardano ad esempio le iuola proprio di via piumati è prevista anche a mano e poi sarebbe possibile anche utilizzare in certi casi il dissecante come ho visto che è stato utilizzato per delle siepi che ormai erano state invase c'erano ormai spazi tipo mezzo metro quadro metro quadro delle iuola invasi darbace il rosetto era sparito sono state disseccate il glifosato è un composto degli erbicidi ma non dei disseccanti quindi il disseccante si può in certa occasione comunque usare per quanto riguarda dicevo quindi la scerbatura e la tosatura questa è prevista più che per passaggi per mantenere la forma delle siepi quindi viene stabilito ad esempio dal capitolato che quando si superano i 10 cm di lunghezza dei ricacci si deve ridare forma ora per fare tutta via piumati con le iuole nuove mi pare che abbiano speso circa un giorno un giorno e mezzo non passavano almeno da aprile a fare la pulizia delle siepi e la scerbatura e la pulizia delle cartacce eccetera è chiaro che se questo lavoro viene fatto e ci hanno messo circa un giorno due mezze giornate in due giorni diversi se fosse un lavoro fatto in forma più costante non solo per via piumati ma anche per altre zone che hanno la stessa problematica il lavoro sicuramente sarebbe inferiore e manterremmo la forma e il decoro dell'area verde come ricordava l'assessore l'intervento di riqualificazione urbana di via piumati ha cambiato il volto di via piumati ma davvero non c'è niente di più brutto di un'area verde non curata ora visto che ci sono dei visto che il capitolato prevede dei passaggi specifici il mio problema e qui non ha risposto che ponevo era come fare in modo che il controllo sia efficace e il problema non si ripeta ad ogni segnalazione del consigliere X o Y grazie grazie ultima interrogazione sempre a cura del consigliere all'Asia il quale se avesse bisogno del testo io lo faccio avere subito non è una battuta davvero se ha difficoltà a ritrovare il file io gli lascio il cartaccio riguarda l'agibilità e il decoro dell'area Cani della zona Madonna dei Fiori prego consigliere grazie presidente posso chiedergli anche gli occhiali era una battuta anche questa però non era tanto una battuta perché è sparito nel momento in cui parlo sparisce tutto si ci riprovo no no a posto a posto grazie si sa una mozione di sfiducia nei confronti del consigliere Marengo è possibile no allora per quanto riguarda per quanto riguarda l'area Cani del parco dei Madonna Fiori da segnalazioni ricevute ho verificato che l'area effettivamente è inagibile da parecchio tempo almeno parecchie settimane ci sono parti di recinzione abbattute altre parti di recinzione sono pericolanti la struttura di sostegno della cartellonistica di segnalazione dell'area è a terra so che qualcuno forse ha anche provato a sollevarla a suo rischio e pericolo perché non è in grado di rimanere in posizione diritta e c'è abbandono in sostanza dell'area ho notato che da un ingresso c'è un cartello piuttosto approssimativo che indica che l'area è fuori servizio ma le porte d'ingresso sono normalmente aperte e quindi interrogavo su che cosa si intende fare per mantenere l'agibilità di questa struttura grazie risponde ancora una volta l'assessore Messa allora l'area Cani di Madonna Fiori in tutti questi anni è stata manutenuta dai nostri cantonieri ma nel tempo la recinzione e le strutture in legno hanno subito un degrado dovuto principalmente agli agenti annosferici nelle scantimane scorse è avvenuto l'ennesima rottura della staccionata che ha portato all'interdizione all'area allo stato attuale le strutture linee presenti non possono più essere recuperate in quanto marcite alla base pertanto si stanno individuando le risorse per un suo rifacimento possibilmente fra l'altro allargando la stessa per almeno un 20-30% non appena si concluderanno le attività di preventivazione di tali lavori verranno fidati i lavori per la realizzazione della nuova staccionata grazie l'assessore la replica del consigliere al quale chiedo poi gentilmente di restituirmi il due test no ma dopo dopo perché io li lascio nel mio faldone grazie grazie presidente grazie per il prestito della carta allora ringrazio l'assessore per la risposta ma se da una parte è positiva perché si sta studiando qualcosa dall'altra non ha indicato i tempi previsti perché il problema è un problema di vecchia data nel senso che ha già parecchie settimane il problema dell'agibilità della struttura quindi se si si certo sono distratto perché sono in tecnica no dicevo che la risposta è stiamo stiamo valutando il tipo di intervento da fare chiedevo di specificare anche i tempi questo perché ormai ed è parecchie settimane che la struttura non è agibile tra l'altro nelle condizioni in cui si trova da parte degli utenti si lamenta anche una certa pericolosità perché gli animali o i bambini se si appoggiano alla staccionata la staccionata cede e quindi con possibili conseguenze più che per gli animali diciamo io mi preoccupo più per eventualmente per i bambini ma comunque insomma i danni che si possono creare e quindi a discapito dell'amministrazione comunale chiederei quindi solo una specifica dei tempi se non è in grado di darla oggi in sostanza però di darla nel più breve tempo possibile in una commissione lavori pubblici perché quest'area è molto utilizzata viene sentita molto dai cittadini che hanno un animale che hanno un cane la intendono utilizzare il fatto che si afferma da tante settimane è un motivo scusate il fatto che si afferma da tante settimane senza nessun segno diciamo di che tipo di intervento si voglia dire semplicemente si voglia fare semplicemente un cartello posticcio con su scritto fuori servizio la cittadinanza o i fruttori non capiscono che cosa si intende fare di questa struttura ed è bene che siano informati e si agisca il più breve tempo possibile grazie va bene se l'assessore è in grado già di parlare di tempistica prego gli lascio la parola sì in dettaglio ulteriormente dicendo che rispetto probabilmente al momento in cui lui ha visitato l'Aracani sono già stati asportati alcuni elementi pericolanti è già stato preso contatti con un'azienda si stanno appunto ottenendo dei preventivi questi preventivi si è chiesto di valutare anche un allargamento della stessa se tutto va come deve andare l'affidamento dei lavori mi auguro sia breve quando si intende breve intendo qualche settimana per cui mi auguro che nell'arco di uno o due mesi a massimo i lavori possono essere completati diciamo per la settembre direi che i lavori potrebbero già essere completati grazie assessore consigliere soddisfatto sì va bene allora sono finite le interrogazioni in tempo utile quasi al pennello passiamo alla prima delle due mozioni convenzioni di assoggettamento uso pubblico per riperimento degli standard urbanistici mozione presentata dal capogruppo del 5 Stelle all'Asia e dal capogruppo città bracita per vivere a Maju mozione che ritorna in consiglio comunale dopo che se ricordate il 20 giugno era stata fermata per perché io avevo recepito eccepito diciamo così un errore nella procedura una pregiudiziale questa volta invece l'errore è stato riparato ecco perché ne possiamo discutere in questa sede prego i proponenti consigliere Maju prego grazie presidente direi finalmente possiamo avrire dibattito in consiglio allora io dare lettore insomma alla mostrata che l'hanno portato nello scorso consiglio comunale che insomma vorrebbe portare all'attenzione a tutti le convenzioni soggettamento a uso pubblico per il reperimento degli standard urbanistici nel nostro comune il ricorso all'assoggettamento all'uso pubblico per il reperimento degli standard urbanistici ai sensi dell'articolo 21 56 del 1977 è caratterizzato da convenzioni in cui si dà la possibilità al privato di esercitare una forma di controllo sull'area destinata a tale scopo ovvero a parcheggio attraverso la limitazione del libero accesso al pubblico in orari normalmente non definiti per generiche e non specifiche ragioni di sicurezza il testo di legge prevede attualmente 1,4 dell'articolo 21 ai fini degli standard di cui al presente articolo sono computabili oltre alle superfici delle quali è previsto l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento permanente ad uso pubblico disciplinato con convenzione il termine permanente indica la stabilità dell'assoggettamento all'uso pubblico nella durata e nella modalità permanente appunto di accesso e fruizione a tutti i cittadini ed è stato inserito a seguito di modifica con la norma regionale la legge regionale del 2013 andando a esplicitare quanto già comunque è implicito nel significato e nello scopo della legge ovvero quello di reperire gli standard conseguenti necessari a interventi urbanistici a beneficio della collettività considerato che nei casi che abbiamo riscontrato nel nostro comune ritroviamo convenzioni dove l'uso pubblico viene di fatto interrotto per la possibilità data al privato di chiudere l'accesso al pubblico in determinati orari per le seguenti ragioni le motivazioni adotte nelle convenzioni sono sempre di sicurezza ma nulla viene specificato sui pericoli o sui rischi che l'apertura dello spazio o uso pubblico comporterebbe ovvero non vengono indicate vere ragioni a motivare la chiusura gli orari di chiusura per le motivazioni di qui sopra sono generalmente notturni ma possono includere anche i giorni festivi nelle ore diurne manifestando in forma ancora più evidente la mancanza di una ragione specifica di sicurezza nelle orari di chiusura al pubblico questi parcheggi normalmente rimangono ad uso esclusivo del privato configurando quindi una chiara interruzione discrezionale dell'uso pubblico le convenzioni non danno alcuna specifica indicazione sulle caratteristiche minime per una corretta segnalazione e segnaletica verticale da installare all'interno e all'esterno di dette aree l'altro canto la presenza visiva di recinzioni sbarre chiusure in genere anche aperte inibisce la percezione dell'uso pubblico dell'aria spesso anche in convitanza con la normale configurazione e posizione ne è appunto un esempio il recente piano di recupero di piazza Carlo Alberto via Sarti dove i parcheggi e le isole verdi sono nella realizzazione praticamente un cortile privato le convenzioni adottate nel nostro comune inoltre sono carenti di indicazioni su oneri di manutenzione ordinaria straordinaria quindi pulizia costi degli eventuali servizi illuminazione eccetera eccetera le convenzioni adottate nel nostro comune spesso prevedono che gli oneri per il mantenimento dell'apertura al pubblico senza soluzione di continuità su richiesta del comune stesso siano a carico della collettività considerato inoltre che gli elementi sopracitati sono contare sia la lettera che allo spirito della legislazione vigente che prevede l'assoggettamento all'uso pubblico come alternativa dell'accessione di proprietà al pubblico quando queste soluzioni risultano impossibili ma senza alcuna alterazione dello scopo e della funzione che gli standard urbanistici hanno in un caso come nell'altro ovvero prevedere spazi di utilità universale nei mesi scorsi su nostra sollecitazione al segretario generale della ripartizione urbanistica ha chiesto un parere alla regione sull'uso del termine permanente la competente direzione regionale ha precisato da un lato che il termine permanente è l'opposto di saltuario e che quindi l'assoggettamento pubblico non deve avere soluzioni di continuità non saltuariamente e dall'altro afferma che comunque possono essere gestiti gli accessi allo spazio soggettato all'uso pubblico con orari e modalità da definirsi in convenzione tale risposta dalla regione nonostante sia in parte contraddittoria nel definire prima la permanenza dell'uso pubblico e poi parlando di gestione dell'accesso secondo le esigenze anche del privato fatto che contraddice l'uso pubblico vincolando la sua estensione a esigenze private stabilisce però il punto fondamentale che l'uso pubblico non possa avere soluzioni di continuità nelle convenzioni previste dal comune di Bra è invece presente la possibilità data al privato di interrompere l'uso pubblico dell'area destinata a parcheggio potendone altresì il privato continuare a godere in modo esclusivo anzi per quanto evidenziato in precedenza l'uso pubblico è compromesso anche nello spazio temporale in cui teoricamente è concesso data l'assenza di regolamentazione sulla sua visibilità al pubblico e conseguente segnalazione considerato infine che vi è poi la mancata identificazione da parte del comune delle aree soggette all'uso pubblico di fondamentale importanza per l'ente per esercitare i dovuti controlli del rispetto delle convenzioni non è infatti previsto nei nostri uffici alcuna memoria in forma di elenco o meglio mappale delle aree private soggettate a uso pubblico rendendo di fatto impossibile ogni controllo soprattutto con il passare del tempo e interrompere eventuali violazioni dalla convenzione volte a comprimere ancora una volta l'interesse pubblico questa nostra mozione impegna il sindaco e la giunta a predisporre uno schema di convenzione per l'assoggettamento a uso pubblico basato sugli indirizzi esplicitati dal modello di convenzione di provvedere al censimento verifica e modifica delle convenzioni in essere per l'assoggettamento a uso pubblico di aree private in modo che siano rimosti per quanto possibile gli orari che permettono l'uso esclusivo privato dello spazio pubblico sia installata opportuna e chiara segnalazione sia all'esterno che all'accesso dell'aria a parcheggio pubblico grazie grazie a lei consigliera Maju la mozione è stata illustrata e adesso è aperto lo spazio per la discussione consigliere Bergesio prego grazie presidente mi trovo a intervenire su una proposta di mozione che abbiamo anche analizzato nella congiunta commissione urbanistica ed edilizia qualche giorno or sono mi trovo perciò a dover ribadire quello che è stato il mio pensiero già espresso in quella sede qua ci troviamo di fronte a una mozione che come il consigliere Maju ci ha letto qualche istante fa è una mozione prettamente basata sulla norma che si vuole andare a sviscerare e c'è una riflessione sul termine permanente riflessione che come ci è stato riportato all'interno della commissione congiunta è stata già risolta qualche giorno fa sia dall'ufficio legislativo della regione Piemonte organo che ha promulgato la legge regionale in questione che dà un parere legale di un avvocato amministrativo ora io credo che la appunto la parola permanente per come su cui si basa l'impianto di questa mozione non non sia oggetto di discussione nel senso che gli accordi che fino ad ora sono stati presi dal comune con i privati sono accordi legittimi e indi per cui insomma questa modifica legislativa successiva non 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 vada ad inficiare quello che è già stato quello che è già stato il pregresso si si parlò e questo è un altro tema che insomma non è non è non è esplicitato letteralmente ma che credo vada vada analizzato credo che le varie convenzioni che vengono redatte dagli uffici mano a mano come appunto è stato fatto fino ad oggi sia il modo migliore con cui un'amministrazione debba operare caso per caso su e caso per caso analizzare che tipo di convenzione possa possa essere la migliore ribadisco perciò il parere contrario mio e della maggioranza a questa mozione grazie intanto segnalo che c'è un assoggettamento d'uso pubblico del vassoio di caramelle e di cioccolatini su cui proporrei una mozione specialmente di lasciare anche qualcosa che io è uscito perché lo vedevo l'assessore messa con uno sguardo tra il famelico e il deluso grazie comunque al consigliere Bergesio ha chiesto la parola e gliela do al consigliere Elena grazie presidente ma allora sulla mozione che stiamo discutendo e abbiamo già ma già bene detto il collega Bergesio esaminato in commissione urbanistica congiunta con la commissione edilizia nella quale siamo stati messi al corrente sia del parere dell'ufficio legale della regione che del parere dello studio legale dal piazza nel merito dell'oggetto della mozione stessa pareri i quali confermano il corretto comportamento nel tempo delle varie amministrazioni sul tema dell'assoggettamento delle aree private per uso pubblico in caso di interventi di tipo urbanistico ricordo poi che la norma è stata poi variata con la legge regionale numero 3 del 2013 articolo 21 comma 4 il concetto di permanente è chiaramente riferito alla permanenza nel tempo delle varie convenzioni tra ente comune e operatore e questo viene ribadito dai due pareri che inoltre si esprimono anche sulla possibile e fattibile regolamentazione oraria di tali spazi che può essere determinata con discrezione da parte del comune per motivazioni relative alla sicurezza degli spazi stessi essendo posizionati in particolari condizioni che specialmente nelle ore notturne potrebbero essere zone critiche e non facilmente controllabili in merito al problema della criminalità tema tra l'altro sempre più sentito dai nostri cittadini poi non è escluso che l'amministrazione possa per determinati casi chiedere che tali spazi vengono aperti al pubblico 24 ore su 24 7 giorni su 7 infatti potrebbero presentarsi delle casistiche che ciò e ciò può avvenire e saranno gli uffici preposti insieme alla giunta a valutare tale opportunità noi come gruppo siamo dell'opinione che bisogna continuare a comportarsi sulla linea di quanto è stato fatto fino ad ora e di valutare caso per caso ogni qual volta si presenterà tale valutazione dovrà essere equilibrata sia per tutelare l'interesse pubblico ma anche nel contempo di tutelare l'interesse degli operatori privati che hanno dei diritti urbanistici dettati del piano regolatore questo anche per e mi riferisco al centro cittadino visto che tutti chi più o chi meno ci riempiamo la bocca con meno consumo del suolo e agevolazioni per recupero del patrimonio edilizio esistente di non andare magari controcorrente con penalizzazioni ad operatori che vogliono recuperare dei fabbricati esistenti sfruttando quello che la normativa di piano consente operatori che tra l'altro versano o verseranno onere di urbanizzazione nelle casse comunali che sono saranno speriamo ossigeno per fare investimenti e migliorare i propri servizi pubblici il consigliere all'Asia nella scorsa commissione congiunta urbanistica edilizia parlava di rivedere o partire da concetti nuovi in temi di urbanistica creando spazi pubblici piazze parcheggi utilizzabili 24 ore su 24 7 giorni su 7 io ricordo che molte volte nel centro cittadino questo è quasi impossibile se no andando contro la regolamentazione metodologia normativa attuale ed adottata fino ad ora è prevista dal piano regolatore anche perché nel centro cittadino in molti casi le scelte progettuali sono obbligate in base a paletti come la viabilità esistente altri fabbricati già esistenti ma questo sarà compito degli uffici e dell'amministrazione di valutare volta per volta così come ho già detto in precedenza inoltre sull'eventuale retroattività di rivedere cioè le convenzioni già in essere questo è un altro punto che non ci trova d'accordo infatti andare a rivedere accordi fatti rispettando la normativa vigente in allora o quando sono state fatte le convenzioni potrebbe sicuramente generare dei ricorsi e contenziosi con l'operatore che poi tra l'altro all'inizio della convenzione magari era uno adesso alienando gli immobili sono diversi i quali acquistando gli immobili inseriti nell'intervento giustamente si sono accollati tutti i vincoli e le servitù presenti dicevo contenziosi perché attualmente le convenzioni prevedono che la manutenzione la pulizia eccetera siano a carico proprio dei privati e già ora qualcuno che magari è subentrato nella proprietà non lo capisce figuriamoci se andiamo a cambiare la tempistica dell'uso degli spazi siamo invece favorevoli ad un censimento un'anagrafe di queste aree e spazi ad uso pubblico con le loro relative convenzioni in modo da avere un quadro completo che servirà per far rispettare le condizioni e regole stesse espresse proprio nelle convenzioni in essere altresì siamo anche d'accordo su una migliore segnalazione di tali aree con un'appropriata e più visibile segnaletica stradale per questo magari si potrà dare un aiuto agli uffici preposti da parte anche dei professionisti che operano sul territorio braidese segnalando eventuali anomalie o mancanze cosa che appunto è anche ammersa e richiesta in sede di commissione urbanistica da parte degli uffici e dei commissari grazie grazie a lei consigliere grazie a lei la situazione è bloccata nessuno chiede più la parola se nessuno chiede la parola metto in votazione il testo se nessuno più chiede la parola devo mettere in votazione il testo allora cioè il testo devo mettere in votazione c'era l'Asia prego scusate solo una precisazione siccome noi vorremmo replicare e poi immagino ci sia spazio eventualmente alla controreplica da parte dei consiglieri io sto solo attendendo che effettivamente tutte le diciamo le controtesi o tutti i pari sulle animazioni vengano espressi in modo da poter replicare perché se no giustamente se non ricordo male per adesso hanno parlato in tre ovviamente non posso chiaramente obbligare chi tace a parlare non avevo capito il senso della certo certamente certamente però tre hanno parlato di cui per ora due a nome della maggioranza e uno a nome di un gruppo e poi siamo qui che aspettiamo e uno a nome di un gruppo sì o due chiedo scusa abbiate pazienza abbiate pazienza ha parlato il consigliere Bergesio per adesso a nome della maggioranza fuggiti irreparabile tempus consigliere Callasia prego grazie presidente allora il consigliere Amagiù prima ha letto il testo della mozione che insomma abbiamo deciso di leggerlo perché a nostro avviso è manifestamente chiaro e pone due problemi sia nella parte di premessa sia nella parte diciamo di richiesta di impegno che sono uno di tipo normativo e l'altro invece di interesse pubblico perché vede quello che noi abbiamo esaminato nelle convenzioni e ci siamo soffermati le convenzioni recenti dal 2014 in avanti cioè tanto per intenderci post modifica della legge regionale che ha inserito quell'aggettivo permanente e abbiamo riscontrato esattamente l'opposto di quello che è stato detto cioè la valutazione caso per caso le modalità gli schemi di convenzione approvati in delibera di giunta sono tutti praticamente identici e non vanno a discriminare da caso a caso può essere l'intervento in centro piuttosto che l'intervento in un'area in un'area industriale ma sempre le stesse motivazioni vengono adotte per quanto riguarda l'interruzione e la gestione dell'orario dello spazio privato dedicato all'uso pubblico quindi in realtà non c'è uno studio caso e una valutazione caso per caso poi citerò due o tre esempi lampanti al riguardo ma c'è semmai uno standard che è quello che favorisce in buona sostanza il privato nella contrattazione tra le parti e lo favorisce in in due modi uno all'atto all'atto della della progettazione all'atto della sistemazione dell'area perché quest'area che ugualmente a quella destinata all'uso pubblico non ha importanza quindi che rimanga di fatto privata deve avere le stesse finalità e la stessa servitù per quanto riguarda l'uso pubblico viene normalmente inserita insieme all'interno con una difficile separazione con le aree private per cui abbiamo aree private e aree pubbliche che sono dietro la stessa recinzione e questo provoca ovviamente dei problemi sia in ordine della gestione dell'area e sia della possibilità di utilizzo dell'uso pubblico uno per la visibilità e la percezione come è stato detto ma anche perché anche perché a questo punto tutte le eventuali problematiche che si accennano relative alla sicurezza non possono che manifestarsi ora le motivazioni che vengono adotte sono sempre per motivi di sicurezza ma il punto è quali sono le ragioni o meglio i pericoli che si corrono in quella determinata area rispetto a un'altra perché le stesse ragioni di sicurezza non definite cioè sicurezza solo il termine sicurezza viene utilizzato per via Sarti piuttosto che per Corso Monviso piuttosto che per via Cavour quindi qua non c'è studio di caso per caso ma semmai viene definito uno standard che è quello per cui il privato per ragioni di sicurezza può decidere l'orario con cui far aprire all'uso pubblico l'area noi vorremmo come si fa in molti altri comuni in Piemonte che si instaurasse il paradigma opposto cioè partiamo dalla tutela del bene pubblico cioè ristabiliamo la completezza la pienezza dell'uso pubblico dell'area in primis poi ragioniamo caso per caso ed eventualmente per ragioni specifiche ben motivate nell'atto si possono definire delle eccezioni ed è esattamente il ribaltamento della logica che descrivevo prima che è sempre stata praticata nel nostro comune ancora fino adesso la questione legale è una questione che a nostro avviso è insita sia nell'aggettivo permanente che la regione ha proprio definito come non saltuario l'aggettivo permanente vuol dire non saltuario se guardiamo il dizionario saltuario vuol dire è qualcosa che interrompe la soluzione di continuità l'orario di chiusura di apertura di uno spazio diventa interruzione dell'uso pubblico se questa interruzione riguardasse la generalità degli utenti quindi tutti l'universalità sarebbe più che legittimo ma visto che viene interrotto l'uso al pubblico ma viene continua a essere concesso l'uso al privato che sulla stessa area insiste con le sue aree private a uso privato a quel punto si interrompe la pubblicità l'uso pubblico dell'area quindi lo schema di convenzione che noi abbiamo proposto vuole ribaltare esattamente l'abitudine fino adesso instaurata che a nostro avviso non rispetta i termini di legge sia per il termine permanente e sia per il senso della legge perché il senso della legge per un intervento urbanistico bisogna riperire degli spazi a beneficio del pubblico a beneficio universale e questo senso non può cambiare a seconda che la proprietà il diritto il diritto reale di proprietà sia a carico del pubblico o del privato non c'è questa differenza e non ci può essere il problema della segnalazione è un problema importante da questo punto di vista perché la mancanza di segnalazione o la non corretta segnalazione dello spazio rende di fatto non servibile alla generalità al pubblico l'uso dell'area che è stata prevista ritorno ai casi ritorno alla questione al confutare il fatto che noi ragioniamo caso per caso nel nostro comune porto dei casi recenti recenti l'intervento del palazzo di piazza Carlo Alberto via Sarti c'è un'area che si affaccia su via Sarti che è completamente ricentata in quell'area ci sono dei parcheggi pubblici anche dell'area verde pubblico se ricordo bene e dei parcheggi privati tutti dietro la stessa recinzione un'area oggetto di un piano di recupero progettata ex novo si è buttato giù tutto e si è ricostruito dove l'interferenza tra spazi pubblici e privati si poteva benissimo evitare in partenza così come in tantissime altre aree della nostra città senza inficiare il progetto a beneficio però del pubblico la stessa previsione lo stesso tipo di convenzione con le stesse ragioni di sicurezza sono ad esempio previste nel recente intervento che mi pare sia in fase di attuazione di un'azienda locale per la realizzazione di un parcheggio per la realizzazione di un intervento quest'area che è esterna al recintato dell'azienda viene per quest'area viene data la stessa possibilità di segregare l'accesso al pubblico per motivi di sicurezza quali? Si è detto qualcuno ha accennato anche al fatto che il problema della sicurezza è sentito per cui occorre tenerne conto eccetera io si è detto anche in commissione ora bisogna anche precisare una cosa perché una sbarra dovrebbe dare maggiore sicurezza di niente per l'accesso a un cortile secondo perché dal primo il primo articolo del manuale dei ladri recita che dovunque ci sia un cul de sac io non ci vado con nessun mezzo perché dove c'è un cul de sac cioè un ingresso uscito dallo stesso punto non vado perché l'unica mia via d'uscita è preclusa infatti nei cortili ahimè esperienza personale io vivo in un palazzo con il cortile recintato e abito al secondo piano sono entrati in casa senza ovviamente far entrare un mezzo nel cortile perché perché un mezzo sconosciuto in un cortile si nota può essere bloccata la sua uscita può essere bloccata volontariamente e involontariamente quindi le vie di fuga sono precluse si è notati molto più facilmente non è un problema di sicurezza va specificato bene ci sono pochi casi che possono vantare questo problema addirittura siamo al paradosso che per un intervento in centro dove si poteva benissimo monetizzare per le stesse ragioni lo schema di convenzione ha previsto ad esempio un parcheggio pubblico dentro un cortile che in realtà funziona da Deor in via Cavour all'interno di un'area pedonale e in sostanza il ragionamento caso per caso qui non c'è è evidente c'è uno standard che a nostro avviso viola la legge viola lo spirito della legge ma soprattutto viola l'interesse pubblico e perché viola l'interesse pubblico perché quegli spazi devono essere destinati all'uso pubblico si può essere d'accordo non d'accordo sulla legge ma se quegli spazi devono essere destinati all'uso pubblico così deve essere in modo pieno in modo pieno in modo uguale per tutti e il secondo aspetto è proprio per gli interventi in centro sento spessissimo in commissione in consiglio lamentarsi quando si prevedono gli interventi in centro dei problemi della riduzione dei parcheggi della mancanza di parcheggi oddio se facciamo un intervento urbanistico attenzione che ci togliamo i parcheggi tanto è vero che noi ad esempio abbiamo il cortile di una delle scuole più numerose della nostra città se non la più numerosa che viene adibito il sabato pomeriggio in determinati momenti come parcheggio pubblico e questi ragazzi tra l'altro non hanno neanche un'area verde ma gli stessi giorni in cui noi apriamo un'area pubblica per dare dei parcheggi perché pensiamo che ci sia la mancanza negli stessi orari un'area privata a uso pubblico è chiusa i suoi parcheggi sono chiusi questa è schizofrenia neanche io non sono stato io giuro quindi qua la mancanza di valutazione caso caso e la mancanza di un paradigma che vada a favore del pubblico ci crea un doppio problema il problema di origine è due danni il primo danno è quello di non avere la piena funzionalità dell'uso pubblico e il secondo danno è che poi dobbiamo reperire spazi pubblici che dovrebbero essere adibiti ad altre funzioni come per esempio una benedetta area verde per questi ragazzi che fanno sta scuola non lo facciamo per poter aprire un parcheggio e dall'altra parte quando ci sono interventi che prevedono il reperimento di spazi per l'uso pubblico per parcheggi questi li facciamo chiudere proprio nei momenti in cui apriamo quegli spazi laggiù inoltre a conferma della valutazione caso per caso che non c'è se mi le chiedo se mi posso sottrarre questo tempo così finisco il concetto per eventualmente il prossimo facciamo patta con la difficoltà di reperire sul suo tablet che lì aveva già perso due minuti grazie dicevo a conferma del fatto che questi spazi non nascano nelle convenzioni con l'obiettivo primario l'interesse pubblico c'è che quando il comune è previsto nelle convenzioni vada a chiedere l'ampliamento degli orari di utilizzo di queste aree i costi per l'ampiamento degli orari se li debba soborcare il comune come se quindi questi spazi non fossero a uso pubblico non fossero a servitù pubblica ecco quindi le ragioni fondamentali della nostra mozione a riguardo per quanto riguarda scusi a riguardo invece delle situazioni precedenti quelle che arrivano fino a oggi la modifica degli orari contrariamente a quello che abbiamo pensato abbiamo anche scritto nella mozione non implica quasi mai la modifica delle convenzioni perché gli orari vengono indicati come scelta libera o contrattuale tra giunta eventualmente e parere del commissione lavori pubblici e viabilità e privato a seguito dell'adozione della convenzione per cui gli ampliamenti degli orari possono essere a nostro avviso valutati e modificati senza andare a modificare le convenzioni per questa ragione e per superare questo impasse abbiamo preparato un emedamento che supera questo problema del pregresso chiedo solo al consigliere Ab se ha la stampa di questo emendamento lo leggo velocemente quindi sostituire l'intero paragrafo il secondo paragrafo della sezione impegni al sindaco e alla giunta in cui si chiede il censimento di provvedere al censimento degli assoggettamenti a uso pubblico di aree private la verifica e conseguente eliminazione e o riduzione degli orari che permettono l'uso esclusivo privato dello spazio pubblico e affinché la verifica intendiamo sia installata opportuna e chiara segnalazione sia all'esterno che all'accesso dell'area a parcheggio pubblico grazie grazie quindi io adesso recepisco il testo dell'emendamento che ha appena letto quindi un emendamento praticamente sarebbe una correzione al testo vostro insomma all'impegno due alla parte due dell'impegno va bene grazie aveva chiesto la parola il consigliere panero prego grazie presidente allora dalla prima presentazione di questa mozione dal primo consigliere che l'ha presentata ho sentito parlare molte volte come se fosse una prassi di questa amministrazione o delle altre amministrazioni reperire i parcheggi pubblici nel modo o nel posto più complicato possibile io invece credo che l'ufficio gli uffici le amministrazioni le amministrazioni che si sono succedute parlo anche nel mio piccolo da operatore del settore visto che sono quasi vent'anni che opero diciamo nell'urbanistica hanno secondo me secondo noi sempre lavorato nel passato come negli ultimi anni con criterio per cercare di posizionare parcheggi pubblici all'esterno o comunque il più possibile più facilmente fruibile dagli utenti in pochi casi secondo noi non è stato possibile e si sono operate scelte diverse pensiamo quindi che vadano esaminati i singoli casi e ci fidiamo alla competenza ma soprattutto lo so che ci sono le norme e ci sono i regolamenti ma a noi piace ancora pensare che il buon senso possa essere comunque sempre la forma migliore per poter far sì che norme e regole vengano adottate seguendo appunto le ragionevoli indicazioni politiche che secondo noi sono condivise forse da tutti e cioè cercare il più possibile il posizionamento all'esterno cioè il più possibile esufruibile dall'utente come tra l'altro ripeto negli orari più ampi possibili nelle giornate più possibili anche 24 ore su 24 se le condizioni lo portano come tra l'altro ripeto è stato fatto nel passato come ora per quanto per quanto riguarda il pregresso è appunto molto delicato andare a affrontare questo discorso dove spostare equilibri esistenti non è mai consigliato né facile da intuire ci troviamo ci troviamo invece d'accordo per quanto riguarda l'eventualità la possibilità l'utilità per una mappatura e del maggiore segnaletica siamo diciamo tutti d'accordo ma cerchiamo di non avere un atteggiamento troppo repressivo cerchiamo di capire le esigenze degli operatori e di chi ci vive analizzando appunto i singoli casi crediamo inoltre che lo strumento della convenzione che è uno strumento che è stato aggiunto diciamo che è lo strumento con la quale si decidono queste cose sia quello edoneo per regolamentare l'accesso e l'utilizzo di questi parcheggi con particolare attenzione alle zone di maggiore criticità in questo senso nel secondo intervento invece che mi ha preceduto è già stato fatto qualche caso più specifico in riferimento quindi cogliamo forse un po' di differenza tra il primo intervento dove ci sembrava a nostro avviso che potesse essere una considerazione di carattere generale e proprio di metodo generale e quello che mi ha preceduto invece dove riconosciamo che vengono affrontati dei casi specifici questa mozione però mi piace dal punto di vista del suo contenuto in quanto prende in considerazione un aspetto che è vero che ci sta a cuore secondo noi secondo il nostro gruppo BRA deve dotarsi di un'infrastruttura che risolva una volta per tutte il problema dei parcheggi si è parlato appunto del parcheggio della scuola che in questo momento è aperto e è sotto gli occhi di tutti possiamo tutti verificare quanto sia utilizzato quanto sia difficile trovare un posto in quel parcheggio questa è la chiara indicazione che BRA ha bisogno di un'infrastruttura importante nel passato si è parlato di parcheggi sotterranei che siano sotterranei che siano sotterranei che siano dove vogliono ma BRA ha la necessità e l'esigenza di avere un'infrastruttura importante per reperire parcheggi nelle zone più critiche è facile ci viene facilmente in mente il centro e non credo che quei pochi parcheggi che ci vengono richiamati come aggiunti quelli che sono stati realizzati sopra la copertura della ferrovia possono essere una risposta perché ai tempi quando avevamo uno dei vari momenti dove avevamo sollevato questa problematica dei parcheggi a BRA c'era stato risposto ma adesso realizziamo i parcheggi della ferrovia io passo spesso in quella zona e onestamente mi sto anche divertendo in orari diversi in giorni diversi a fotografare questo parcheggio per evidenziare purtroppo quanto poco è utilizzato forse per la sua collocazione e gli stessi giorni di mercato i famosi giorni di mercato dove questi parcheggi dovevano servire per risolvere il problema anche lì e non so se sarà oggetto di qualche altra nostra sollecitazione nel futuro quanto siano poco utilizzati quindi ribadiamo il concetto che i parcheggi pubblici per quanto ci riguarda e quanto riteniamo sono sempre nella maggior parte dei casi nella quasi totalità dei casi collocati in modo corretto o comunque nel miglior modo possibile grazie grazie al consigliere panero consigliere ferrero prego grazie presidente premetto che condivido gli interventi dei consiglieri non proponenti onestamente credevo che dopo la discussione in commissione urbanistica edilizia presenti una trentina di persone tra commissari tecnici la mozione non venisse più presentata in consiglio in quella commissione l'oggetto della mozione è stato sviscerato approfonditamente con i supporti di pareri giuridici giungendo a conclusione che la stessa così come articolata non era condivisibile in quanto derivante da una lettura forzata e di parte del dettato della legge da parte dei presentatori è stato chiarito in commissione che la legge con buon senso definisse il quadro la cornice entro la quale deve essere disciplinata la convenzione e prevede la permanenza nel tempo della validità della convenzione stessa appunto la stabilità di questa convenzione la convenzione tra parti come scritto nella stessa mozione pagina 3.8 terzo quarto rigo ha il compito di definire per lo spazio assoggettato la modalità e gli eventuali orari di accesso da stabilire di volta in volta situazione per situazione appunto con flessibilità ogni altra interpretazione rigida come maggioranza riteniamo sia forzata se la legge avesse ritenuto utile una norma unica rigida senza possibilità di equivoci non avrebbe previsto la possibilità di completare la terra di questo quadro di questa cornice lasciando i pennelli a disposizione della convenzione sarebbe stata già scritta nella legge un'ultima annotazione per quanto riguarda affermazioni espresse al termine della commissione nella quale una degli interroganti ci dichiarava contento che tutto il lavoro svolto produca un censimento delle situazioni e che il tecnico di un altro interrogante ponesse l'attenzione sulla dimensione della P del parcheggio e che le segnalazioni possano e debbano essere migliori ecco io ridirei che se arriviamo a questo dettaglio ritengo che questi risultati potessero benissimo essere raggiunti con una semplice segnalazione all'ufficio preposto riguardo poi all'emendamento che stai presentato bisogna valutare perché non ho avuto modo quanto e anche cosa modifica la versione originaria della mozione prima di potersi pronunciare grazie grazie a lei consigliere consigliere Marengo prego grazie presidente ma io insieme ai colleghi di minoranza ho detto attentamente la mozione che che ci era proposta che ci è proposta anche questa sera anche io devo dire pur non essendo un tecnico ma ho tratto l'altra sera dalla commissione congiunta insieme all'urbanistica delle indicazioni che mi sono parse piuttosto nette nella loro indicazione una di queste è che il busillis della situazione è la definizione di permanente noi questa sera siamo qui a discutere sostanzialmente di questa mozione perché non si trova il bandolo della matassa sulla definizione di permanente io credo che abbiamo ricevuto una risposta dai tecnici dei nostri uffici abbiamo ricevuto una risposta dalla regione abbiamo ricevuto una risposta da un avvocato insomma credo che quella che veniva definita come anch'io credevo la definizione di permanente sia ormai ampiamente condivisa ma ampiamente esplicitata anche perché se poi andiamo a vedere gli altri comuni della provincia vediamo che nel momento in cui si definisce la questione del permanente quindi dell'orario sostanzialmente mi sembra forse solo Cuneo e ha aperto H24 ma tutti gli altri comuni delle sette sorelle sono come noi sostanzialmente hanno degli orari anche di chiusura dei parcheggi ad uso pubblico quindi credo che il problema sia sostanzialmente risolto perché come diceva giustamente il tecnico del consigliere Elena del mio collega Elena pacta sunt servanda per quanto riguarda il passato ora andare a cercare di rinegoziare perché questo sostanzialmente si dovrebbe fare la convenzione fra le parti comune da una parte e privato dall'altra porterebbe sostanzialmente a due strade alcuni potrebbero accettare tranquillamente la questione non credo ma probabilmente magari qualcuno nel numero potrebbe esserci la maggior parte probabilmente direbbe no quindi si creerebbe un'incongruenza tra chi dice sì e chi dice no quindi saremo esattamente il punto di prima la questione di principio di rimente che ci porta qui questa sera si riproporrebbe nelle stesse misure io non frequento ladri a me non penso di conoscerne quindi non conosco bene il manuale dei ladri di cui parlava il collega all'Asia però credo che la questione che la questione della sicurezza sia effettivamente molto percepita effettivamente una sbarra non può fare la differenza fra l'ingresso di ladri oppure no però io credo che un privato cittadino possa credere di essere in maniera più tutelato dal punto di vista della sicurezza se ha una sbarra magari che lo protegge si parlava l'altra sera anche di bambini che giocano nei cortili ecco io non ho figli ma se avessi un figlio e avessi ancora la fortuna che questo figlio potesse giocare con gli amichetti in cortile magari a una certa ora il fatto di avere una sbarra chiusa di accesso al cortile per me sarebbe una questione di sicurezza perché poterò probabilmente li farebbe giocare in maniera più sicura senza l'ingresso di autovetture siccome veniva riportato prima anche da uno dei proponenti il fatto che in questa sala e nelle commissioni spesso alcuni consiglieri ovviamente di minoranza si sono spesi con parole e fatti anche scrivendo sui giornali e diffondendo questo loro pensiero nella maniera più ampia possibile del fatto che ci fossero meno parcheggi beh io di questo ne sono assolutamente convinto oggi ci sono meno parcheggi rispetto al passato c'è da individuare però la fascia oraria la nostra obiezione alla riduzione di parcheggi era sempre dovuta al fatto che in orario di lavoro non ci fossero disponibilità di parcheggi e che quando effettivamente ci veniva detto come giustamente ricordava il consigliere Panero ma tanto ci saranno i parcheggi del ponte di via Isonzo immagino quelle persone che devono andare in via Principi in banca da un'assicurazione dal commercialista dal consulente del lavoro da un avvocato che devono comunque perdere tempo lasciando la macchina da un'altra parte perché io credo che alle 20 di sera il problema di trovare parcheggio a Bra non si ponga più nel senso ci sia la possibilità di trovare un parcheggio quindi non necessariamente io devo entrare in un cortile privato anche perché poi ragioniamo come comune non come un'amministrazione di un colore piuttosto che di un altro effettivamente se ci fosse un domani un ricorso contro l'apertura H24 dei parcheggi beh lo subirebbe tutta la cittadinanza come comune non soltanto una parte politica detto questo pur rispettando il principio che ha portato i colleghi a proporre questa mozione devo dire che non sono sufficientemente convinto tendenzialmente non è un'espressione di voto ancora per il momento presidente credo che sarò mio malgrado costretto a votare in maniera negativa alla proposta proprio perché non sono convinto di quello che questa sera ci è stato proposto l'unico neo che posso fare cioè l'unica cosa che mi viene da dire ma non riguarda la mozione sostanzialmente è che l'altra sera arrivando nella commissione congiunta urbanistica edilizia io mi sarei aspettato che ci fosse già stata una commissione edilizia a trattare la questione in realtà i tecnici della questione non avevano assolutamente trattato a loro era stata solo inviata la mozione per discutere quindi pur facendo ampio ricorso alle loro competenze effettivamente si sono trovati un po' un po' spiazzati questo ovviamente ha dato a mio giudizio alla serata e a una commissione che poteva essere effettivamente sì dirimente probabilmente anch'io mi sarei aspettato delle risposte in più della commissione edilizia ma ripeto non è colpa loro se non ricevono le informazioni in tempo però avrei avuto davvero il piacere che ci fosse la possibilità che ci dessero un parere anche può spegnere grazie a lei consigliere tutti i gruppi mi pare che abbiano parlato allora qui abbiamo come sostanziale novità la proposta di emendamento presentata dai proponenti io lo rileggo a beneficio di tutti quindi quindi consigliere all'asia ha proposto di sostituire il secondo paragrafo dell'impegna il sindaco e la giunta con il seguente provvedere al censimento degli assoggettamenti a uso pubblico di aree private la verifica e conseguente eliminazione e o riduzione degli orari che permettono l'uso esclusivo privato dello spazio pubblico e affinché sia installato opportuna e chiara segnalazione sia all'esterno che all'accesso dell'area a parcheggio pubblico quindi sostanzialmente rispetto alla formulazione originaria non si parla più della modifica della convenzione in essere ma si parla di censimento degli assoggettamenti di verifiche conseguenti eliminazione o riduzione degli orari che permettono l'uso esclusivo privato dello spazio pubblico questo è il succo perché mi pareva di aver colto se non ricordo male da parte del consigliere Ferrero una certa difficoltà ad aver colto il senso del contenuto di questo emendamento consigliere Milazzi prego un chiarimento grazie perché non riesco a capire il senso del dire dell'aver scritto in questo emendamento uso non uso pubblico ma spazio dice privato ma lo spazio pubblico lo spazio è privato non è pubblico è ad uso pubblico io rilecco il testo provvedere al censimento degli assoggettamenti a uso pubblico di aree private virgola la verifica penso sia provvedere alla verifica presumo e conseguenti eliminazione e o riduzione degli orari che permettono l'uso esclusivo privato dello spazio pubblico così è scritto e affinché sia installato opportuna e chiara segnalazione sia all'esterno che all'accesso dell'area a parcheggio pubblico scusi ma non ha senso quel pezzettino lì in italiano non posso rispondere io su questo quindi quindi rigiriamo se eventualmente vogliono rispondere la palla ai proponenti io non posso rispondere sulla presenza o meno di senso di un'affermazione ho la mia idea ma chiaramente non l'esplicito qui però vi motivo quindi grazie al consigliere Milazzo consigliere Ferrero prego ma io direi che con tutta la buona volontà per cercare quanto di positivo può venire da un da un emendamento però mi par di capire che intanto questo secondo capoverso che si intende modificare intanto continua a rimanere l'eliminazione delle ore previste ma quel che è più importante non dice niente del primo capoverso sta convenzione dell'allargato A cosa tra l'altro molto anomala che in una mozione ci sia già il modello da passare da passare lasciamo lavorare gli uffici ci pensano loro a farlo ecco cosa il primo capoverso rimane così com'è? base del elementamento presentato il primo capoverso rimane con me ovviamente consigliere riferire a uno dei due interventi io ho sempre il testo se ho bisogno assolutamente ma io se lo tengo così 5 minuti di tempo questa volta assolutamente ci starò dentro un intervento di sostegno della mozione che è stato fatto sono stati posti due temi a favore della mozione uno di tipo normativo e l'altro di tipo interesse pubblico è stato così specificato beh partiamo allora dall'analisi di quello normativo viene letta la parola e mi spiace ripetermi ma vorrei essere chiaro sul tema la parola permanente come sinonimo di continuativo e consecutivo come tra l'altro viene anche scritto nella proposta abbinata di convenzione che viene allegata alla mozione cioè 24 ore come abbiamo anche utilizzato il termine 24 ore al giorno bene allora l'ente e su questo dobbiamo essere chiari che ha promulgato la norma ci dice invece che permanente vuol dire ripetuto nel tempo vuol dire ripetuto nel tempo ossia con uno schema che si ripete nel tempo cioè come oggi succede a bra e che quindi fa crollare il primo presupposto di tipo normativo quindi punto uno bra fino ad adesso ha operato anche alla luce della normativa attuale nella piena legalità e nella piena legittimità due quello di interesse pubblico passando al tema dell'interesse pubblico che viene citato per la prima volta nella nella dissertazione rispetto alla mozione ma non non ne trovo cenno sulla mozione parliamone però comunque più lungamente apriamo pure il dibattito beh allora interesse pubblico in questo caso non è generale ma è un interesse molto più particolare in termini tecnico e concreto e settoriale cioè per capirci non è l'amministrazione della giustizia più generale ma è appunto settoriale di un settore ben specifico e infatti in questo caso l'ente pubblico si comporta sottoscrivendo delle convenzioni come un con il diritto di tipo privatistico e sconta in questo caso il bilanciamento di tutti quegli interessi di natura privata che concorrono appunto alla composizione delle regole del nostro vivere civile perché appunto non essendo generale ma essendo invece concreto e settoriale va bilanciato con tutti gli interessi privati e genera quindi le regole del nostro diritto civile allora sicuramente in questo bilanciamento va tenuta in considerazione tutti gli interessi che concorrono appunto alla formazione al bilanciamento e quindi sicuramente l'utilizzazione di spazi a uso pubblico ma anche la richiesta di mobilità e collegata alla richiesta di mobilità la richiesta di poter l'interesse a poter parcheggiare la propria autovettura poi c'è anche l'interesse dei cittadini che hanno abitano in in residenze in appartamenti dove in modo contiguo ci siano degli spazi privati a uso pubblico a vedere che ad avere una sensazione anche di sicurezza il che può anche manifestarsi nel che può anche essere solo percepita che comunque è un interesse a far sì che di notte uno spazio attiguo a un edificio privato non sia trafficato non ci siano veicoli irriconoscibili questi sono tutti interessi che per ogni parte sono legittimi e che vanno bilanciati tutti insieme per avere poi la norma ora noi in questo senso dobbiamo operare e dobbiamo operare affinché questi interessi vengano menomati nel minor ognuno di questi interessi venga menomato nel minor modo possibile in maniera da far sì che appunto vengano erosi il meno possibili e l'interesse sia il quanto più collidente che sia il quanto più vicino al massimo dell'interesse raggiungibile da ognuno degli attori in gioco e allora io credo che essendo l'interesse della mobilità e quindi collegato all'interesse della mobilità come dicevo prima e come tra l'altro ripeteva il consigliere Marengo che spero che questa volta non mi citi per fatto personale con un altro intervento non più difficile ho finito i 5 minuti quasi non più difficile reperire parcheggi essendo vivo l'interesse di sicurezza percepita delle persone io credo che il nostro comune debba continuare a operare nella legge della legittimità come è stato dimostrato dall'epoca che ha promulgato la norma in questo senso grazie grazie il consigliere Bergesio allora io ricordo che l'emendamento va poi sottoposto a votazione si sente? si? dicevo che l'emendamento va comunque sottoposto votazione il segretario è uscito non so c'è lui non ha più visto fisicamente è fuori fuori allora io chiedo se ci sono ancora interventi altrimenti procederei secondo l'iter normale votazione dell'emendamento e poi votazione della mozione consiglierell'asia prego grazie 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 presidente allora cerco di riepilogare un po' di rispondere un po' ad alcune annotazioni che sono state fatte allora la legge la legge avrebbe dovuto specificare meglio se avesse voluto veramente intendere grazie 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 adesso sì adesso sì grazie 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 presidente sì allora la legge avrebbe specificato in modo preciso dettagliato come si sarebbe come sarebbe dovuta essere la convenzione no non sono d'accordo la legge non è un regolamento la legge specifica quali sono gli obiettivi del legislatore e secondo me il busillis e cercare interpretazioni fantasiose della norma di cui qua in italia siamo sempre specialisti per quanto riguarda i problemi di sicurezza il cortile non il cortile il problema è proprio quello quando c'è non c'è differenziazione tra spazio pubblico e privato è lì che si possono creare i problemi non è un cortile privato quello è un parcheggio o un'area verde o tutte e due a uso pubblico e bisogna ben tenere la mente diciamo che in linea di massima nessuno manderebbe a giocare i propri bambini chi si affaccia su piazza Carlo Alberto nel parcheggio di piazza Carlo Alberto ecco per intenderci se c'è uno spazio a uso pubblico e quello deve rimanere a tutti gli effetti è lì che si crea il problema l'incomprensione l'ambiguità quando non c'è neanche la percezione dello spazio pubblico si parlava poi del fatto sempre legato alla sicurezza e anche legato ad altri aspetti alla limitazione dell'orario e si poneva l'accento sulla questione degli orari notturni ma questi spazi sono chiusi anche nei giorni prefestivi nei festivi sì sì sabato mattina sabato pomeriggio noi apriamo il parcheggio delle scuole ripeto per il sabato pomeriggio quindi quando c'è esigenza di parcheggio per quanto riguarda il senso dell'emendamento l'interruzione dell'orario allora dato che c'è un'area ad esempio normalmente recintata in cui si trovano spazio pubblico e spazio privato e a cui in determinati orari possono accedere solo i privati l'orario costituisce un'interruzione dell'uso pubblico a favore di un uso esclusivo del privato cioè di chi ha le chiavi o di chi ha il telecomando questo è il significato di quelle parole la regione specifica che si intende per permanente che non sia saltuario lo mette anche tra virgolette e qua il concetto secondo noi importante che se lo spazio pubblico diventa usufruibile solo da alcuni dai privati e qui cessa la continuità dell'uso pubblico per intenderci e per fare un esempio esplicativo chiaro se io ho un giardino pubblico e ritengo per motivi di sicurezza di chiuderlo e di recintarlo in determinati orari e in determinate condizioni in determinate situazioni lo faccio ma lo chiudo a tutti l'uso pubblico non viene interrotto perché non c'è nessuno che ha facoltà esclusiva di accesso a quell'area il ragionamento che è stato fatto poi sulla questione della contrattazione è molto affascinante però non spiega perché questo ragionamento sarebbe fatto solo nel caso in cui la proprietà è privata perché l'uso pubblico non è previsto essere diverso a seconda del diritto di proprietà che insiste su quell'area e sempre ha sempre gli stessi vincoli per cui perché l'uso pubblico su proprietà pubblica non è oggetto di contrattazione con i privati e dovrebbe esserlo invece l'uso pubblico su area privata e portando avanti questo ragionamento allora chiudiamo i portici di via principi in determinati orari chiudiamo via Silvio Pellico perché la lasciamo aperta solo ai residenti ai privati che ne hanno interesse gli lasciamo l'accesso e chiudiamo in determinati orari a seconda di che cosa concordiamo con i privati la via o l'uso pubblico di quella via piuttosto che della piazza piuttosto che del portico allora quante situazioni ci sono in cui le proprietà privati si affacciano direttamente sugli spazi pubblici quante e quante sono in realtà le situazioni in cui questo costituisce un problema di sicurezza sono molto poche e nei casi che abbiamo visto recentemente ripeto ribadisco il caso concreto mi veniva osservato che parlavo di casi specifici sì perché paradigmatici per esempio l'ultimo intervento di piazza carlalberto è sintomatico è paradigmatico da questo punto di vista perché se in fase di progettazione comunque già adesso l'illuminazione è bellissima si prevede di delimitare bene spazio pubblico e privato permettendo anche l'ampliamento nel tempo dello spazio pubblico come normalmente può capitare con i cambi di destinazione d'uso ecco che tutti questi problemi che ci facciamo non esistono più la invito a concludere e Bergesio l'ultimo intervento che ha a disposizione sì beh solo così per per puntualizzare direi in fil di diritto anche se la mia carriera non sarà mai di quel tipo ma si è spento no ok ma l'interpretazione della norma consigliere è chiarissima ed è stata appunto interpretata direttamente dall'organo che l'ha promulgata quindi su questo mi sono già spiegato prima chiuderei la parentesi ha comunque ottime capacità ma l'organo preposto non è lei ma è la regione Piemonte due la parte di interesse guardi l'argomentazione per assurdo è un'argomentazione molto fascinosa quando si spiegano delle degli elementi delle delle proprie teorie delle proprie convinzioni però in questo caso non non spiega il reale senso di quanto io stavo dicendo nel senso che il bilanciamento tra gli interessi che concorrono nel formare le regole che regolano una società un vivere civile non è una contrattazione non è una contrattazione tra parti è qualcosa di più alto è qualcosa appunto che riguarda degli interessi che poi in sedi come queste vanno non contrattati ma bilanciati e allora io le faccio l'esempio che anche su strade ci sono dei bilanciamenti quando noi appunto prendiamo delle decisioni su come posizionare parcheggio su come i sensi di marcia debbano essere quello sono un bilanciamento di interessi e non si può pensare che sia una contrattazione ma è un bilanciamento e stessa cosa in questo caso è un bilanciamento rispetto a una proprietà che pubblica non è ma è a uso pubblico con una servitù con altri interessi che appunto che sono quelli che dicevo prima nell'intervento che sono quelli sulla sicurezza che sono quelli del poter posteggiare la propria macchina e quindi della necessità di mobilità per fare la dichiarazione di voto noi ci asterremo sull'emendamento e poi voteremo contro sulla mozione modificata quindi permettendovi di poter votare poi tutti insieme la mozione come ritenete più opportuna che sia più opportuno che sia presentata grazie ovviamente sempre qualora l'emendamento sia approvato questo è ovviamente consigliere Panero prego grazie presidente molto rapidamente per l'espressione di voto mia e del mio gruppo ribadendo due concetti fondamentali cercando di trovare l'aspetto qualcosa di condivisibile in questa in questa mozione possiamo pensare vederla ci piacerebbe vederla come una mozione che punta al dito o che comunque vuole sollevare una problematica che potrebbe essere quella di verificare una verifica sulle convenzioni in essere non una modifica un elenco ed un eventuale verifica se e dico se ci possa essere stato qualche furbetto diciamo che poco dopo la realizzazione dell'intervento ha tolto i cartelli o la segnaletica di parcheggio pubblico e ha fatto comparire qualche bel cartello con scritto parcheggio d'uso privato del condominio questo è difficile è difficile ma volessimo vedere la mozione fosse stata presentata la mozione in questa direzione potrebbe tra virgolette trovarci favorevole nel dire non le modifichiamo sono delle convenzioni che sono state approvate da ambo le parti quindi legittimamente approvate vedere se anche con l'aiuto dei proponenti che probabilmente se hanno fatto una mozione di questo tipo perché avranno magari dei casi specifici dove loro potranno sollecitare all'ufficio un controllo di queste cose ma visto che secondo noi o da secondo noi da quello che è emerso stasera dalle parole dei proponenti ci sembra che invece l'idea che passi è quella che questa amministrazione l'amministrazione precedente abbiano sempre operato al limite abbiano sempre cercato di trovare un collocamento a questi parcheggi pubblici non il più idoneo possibile o non il più pubblico possibile questo non ci trova d'accordo se l'idea di fondo della presentazione di questa mozione e ci sembra sia questo questa l'idea che vuole passare perché secondo noi ribadendo a quello che ho detto prima si è sempre cercato di operare nella maggior parte dei casi nel modo più ampio possibile quindi cercando di reperire questi parcheggi nel modo più fruibile possibile in alcuni casi non è stato possibile e ci si è comportati sempre legittimamente in un modo diverso per queste motivazioni ci asteniamo dalla votazione di questa mozione appunto perché riteniamo di poterne vedere un aspetto positivo e un altro no grazie grazie al consigliere Panero consigliere Marengo prego grazie Presidente per la mia dichiarazione di voto ma ho sentito le risposte dei proponenti della mozione e effettivamente quello che torna come l'ail motive è sempre il discorso legato alla definizione di permanente sentendo le parole che sono e le opinioni che sono state scambiate comunque questa sera in maniera molto civile mi rendo conto però di una cosa che se partissimo del presupposto che ogni volta lo spirito della legge dovesse essere sempre interpretato alla fine della fiera ognuno di noi avrebbe un'interpretazione diversa e quindi non si potrebbe neanche convivere in un consesso civile sostanzialmente anche perché dovremmo avere diciamo le prove che la risposta dell'avvocato che ci è stata fornita la risposta della regione che ci è stata fornita siano risposte in qualche maniera fraudolenta perché altrimenti avrebbero diciamo in qualche modo negato un'evidenza e così gli stessi uffici comunali che sostanzialmente sono stati concordi nel dare questa definizione quindi anch'io come i colleghi che mi hanno preceduto mi gasterrò per quanto riguarda l'emendamento e voterò in maniera negativa sulla mozione grazie grazie al consigliere Marengo consigliere Elena prego grazie presidente solo per la dichiarazione di voti di voto come componente della banda dei soliti noti no scherzo so bene il manuale no scherzo era solo una battuta perché visto che no il discorso della sicurezza è importante ho sentito un po' le repliche dei colleghi anche dei proponenti però il perno fondamentale di questa mozione è tanto andiamo sempre a finire questo discorso del permanente che permanente secondo noi non può essere visto che come abbiamo già detto nei pareri che abbiamo avuto dalla parte della regione da parte dell'avvocato è riferito a un discorso di permanenza della convenzione nel tempo quindi la regolamentazione è un atto che si può fare poi chiaramente ognuno la pensa come vuole sul discorso della sicurezza io se un cortile è chiuso con la sbarra per carità non è che non dia sicurezza sicuramente perché come ha detto il consigliere all'Asia il manuale ci vanno al terzo quarto quinto piano cioè la sicurezza è una cosa però è sempre un deterrente quindi quindi anche soltanto una sbarra può essere cioè almeno per quei fatti di micro criminalità secondo me è importante ribadisco ribadiamo anche noi come gruppo il discorso positivo invece come ho già accennato prima del censimento di queste aree di andare a vedere con la collaborazione di tutti anche come aiuto all'ufficio su convenzioni magari vecchie che magari ci sia qualcosa che non funziona bene magari anche segnalare direttamente a essere di supporto direttamente agli uffici e anche sul discorso della segnaletica di migliorare la segnaletica magari di queste aree che effettivamente magari in qualche caso sono un po' mal mal segnalate non effettivamente usufruibili da parte del pubblico grazie la dichiarazione di voto anche noi ci esterremo per quanto riguarda l'emendamento e il nostro voto sarà invece contrario alla mozione grazie grazie a lei stavo pensando una cosa così per alleggerle un po' il concetto di permanente si è applicato al mondo degli acconciatori uno va dal barbiere dalla parrucchiera dal parrucchiere si fa la permanente però questo dopo qualche mese finisce perché se fosse permanente stabile il parrucchiere cambierebbe lavoro quindi il concetto di permanente rientra anche qui in tante categorie dell'interpretazione quindi ma no è permanente se uno va dalla parrucchiera si fa la permanente dopo tre mesi dopo tre mesi va di nuovo quindi non è permanente non è permanente comunque a parte le battute sciocche del 24 luglio se non ci sono più interventi io porrei in votazione gli emendamenti però ci sono giustamente ancora interventi e gli diamo spazio consigliere Maju prego io faccio un intervento insomma per ribadire che secondo me la questione non è ma adesso funziona sì voglio dire che la questione non è normativa di questione di parere insomma ma è questione prettamente politica perché altri comuni hanno scelto di interpretare questo permanente come H24 e la nostra mozione vuole semplicemente insomma invitare a garantire la massima accessibilità dei nostri cittadini a questi spazi. Quindi volta a verificare le zone soggettate siano correttamente segnalate qui praticamente ci troviamo tutti d'accordo affinché il pubblico capisca che sono spazi ai quali può accedere ma deve essere insomma il paradigma che dovrebbe cambiare bisogna partire dalla base che gli spazi devono essere aperti 24 ore si 24 e si può andare in deroga a queste soluzioni se ci sono determinate condizioni come vi ho detto prima principalmente quelli di sicurezza ma questo vanno valutate caso per caso. Ci possono essere delle casistiche anche in città abbiamo un caso dove la chiusura ha un senso davanti alla gelatteria che c'è in via San Rocco anche qua c'è un passaggio pubblico che di sera chiude ma è una zona molto molto sensibile quindi è condivisibile in questo caso. Verso tutti gli altri assolutamente no. Soprattutto quando si dice che non sono utili questi parcheggi e appunto nel pomeriggio di sabato durante il giorno quindi non c'è nessun motivo di sicurezza vengono chiusi questi parcheggi. Quindi la domanda non è tanto insomma sui pareri insomma dei vari avvocati ma vogliamo garantire una vera reale utilità dei parcheggi ai cittadini sì o no? Poi come lo si trova. Per questo insomma mi auguro che i colleghi insomma che hanno portato delle perplessità che sono state accolte nell'emendamento possano insomma di sforzarsi a trovare insomma un punto comune perché l'obiettivo assolutamente qua non è chi porta a casa la mozione e chi propone ma è l'interesse dei cittadini. Grazie. Un'ultima cosa. Scusi. Devo solo dire che la contrattazione deve avere effetti uguali per tutti e qui insomma in un certo senso vedo spesso che il beneficio va verso i privati. Grazie. Grazie al consigliere Amagiù. Non ci sono più richieste? Ci sono? Prego consigliere Somaglia. Velocemente. Io intanto la dichiarazione di voto l'ha già fatta il collega Elena però l'ultimo intervento del consigliere Amagiù mi porta con più convinzione a sottolineare il voto che ha testé preannunciato il consigliere Elena perché qui veramente è una visione diversa forse di quello che deve essere. Secondo me come è stato e come probabilmente sarà si vanno a tutelare entrambe le esigenze sia del pubblico che del privato. Allora non è denigrabile il fatto di sottolineare anche o di porre in evidenza delle esigenze del privato. Come fondamentale è l'evidenziare che l'uso pubblico c'è, sono rispettati i criteri di uso pubblico ma soprattutto l'uso, l'esigenza dell'utilizzo e quindi la necessità di parcheggi è assolutamente e a mio avviso incontroversibile il fatto che è negli orari effettivi in cui c'è l'accessibilità pubblica al sito. Come è assolutamente importante andare a tutelare le esigenze di sicurezza perché non solo il sito che ha ricordato il consigliere Amagiù ma anche altri sono in zone in cui problemi di sicurezza e di ordine pubblico potrebbero verificarsi. Un altro dei motivi che mi spingono ad essere contrario alla proposizione di questa mozione è il fatto che allegata alla mozione c'è un regolamento, uno schema di convenzione che approvato insieme a questa mozione diventa rigido e quindi sul quale non c'è eventualmente possibilità di agire. Mi pare che non sia questa la sede ma deve essere una sede tecnica deve esserci un apporto importante dei tecnici se si voglia andare a regolamentare con una convenzione standard questo tipo di problematica. Grazie. Grazie Consigliere Somaglia. Allora non vedo più richieste quindi procediamo. Procediamo alla votazione sull'emendamento proposto dai consiglieri proponenti l'intera mozione. Se è il caso lo rileggo altrimenti ditemi cosa volevo fare. Va bene, andiamo avanti. Segnaliamo allora la presenza. Va bene, possiamo votare. votazione chiusa. Allora l'emendamento è approvato con due voti favorevoli perché gli altri 14 si sono astenuti. Bene, adesso votiamo la mozione così come è emendata. Possiamo segnalare la presenza. Va bene. Possiamo votare. Votazione chiusa. La mozione è respinta con 12 voti contrari, due favorevoli e due astenuti. Astenuti Paniero e Tripodi. Sì. Questo è il testo dell'emendamento. Lo riceviamo bene. Allora, mozione successiva proposta dai consiglieri Marengo, Somaglia, Elena, Tripodi e Paniero sulle tematiche della sicurezza urbana. Consigliere Marengo, prego. Dovrebbe andare. Sì, in realtà con i colleghi di minoranza del centro-destra abbiamo presentato questa mozione che abbiamo illustrato l'altro giorno in Commissione Sicurezza. La mozione prevede sostanzialmente l'adozione da parte del Comune di Bra di quello che viene definito il Daspo del Sindaco. Il Daspo sapete che è quell'istituto per cui da un punto di vista calcistico ai tifosi violenti viene impedito l'accesso allo stadio nel momento in cui hanno commesso qualche illecito. Il Daspo del Sindaco è stato in realtà un decreto legge 14 del 2017 che è entrato poi in vigore ed è stato convertito in legge ad aprile. Da quanto mi risulta è al vaglio di moltissime amministrazioni, proprio perché è uno strumento che offre al Sindaco l'opportunità di agire per quelli che sono le sue competenze nell'ambito della sicurezza. Diciamo che questo decreto prevede diverse situazioni. Le più importanti però, quelle che abbiamo anche discusso l'altro pomeriggio in Commissione Sicurezza riguardano l'individuazione di aree sul territorio comunale dove più specifica deve essere l'attenzione della sicurezza. All'interno di queste aree la sorveglianza deve essere appunto maggiore rispetto ad altre parti della città e sono situazioni che riguardano sostanzialmente il degrado urbano, quindi la prevenzione eventualmente del degrado urbano e la possibilità che in queste zone, essendoci una criminalità micro o macro, con il Daspo del Sindaco si possano allontanare in prima istanza per due giorni, per 48 ore e poi se il questore conferma addirittura in caso di reiterazione anche a per sei mesi o più, da sei mesi ai due anni, la persona dal luogo dove ha commesso l'illecito. Vorrei leggervi alcune frasi che mi hanno colpito riguardo al Daspo del Sindaco. Questo decreto legge introduce per il Sindaco, quale rappresentante della comunicata locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo eventualmente in maniera di orari di vendita, anche per l'asporto e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Questo si va ad aggiungere alla precisazione per cui le ordinanze contingibili e urgenti concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione. Quelle concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spazio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e fenomeni riguardanti abusivismo come l'illecita occupazione di spazi pubblici o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti. E' ovvio che alcune di queste situazioni, almeno nel nostro comune, non vedono per fortuna protagonisti così assidui nel delinquere un così grande numero di persone, però potrebbe essere lo strumento che in un futuro, chissà, che quello che oggi è una microcriminalità possa diventare una macrocriminalità, possa dare comunque l'indirizzo e uno strumento al sindaco per tutelare l'incolumità dei breidesi. Noi crediamo che questo decreto legge, tramutato poi in legge, possa essere un valido ed un ottimo strumento. Tant'è vero che proprio, leggevo l'altro giorno, un elenco lunghissimo di comuni lo stanno discutendo e probabilmente alcuni lo avrebbero già anche adottato se, diciamo così, le votazioni del giugno scorso durante la campagna elettorale non avessero in qualche modo rimandato successivamente la discussione. una delle cose che mi ha colpito, una delle particolarità che forse balzano più agli occhi, almeno per me personalmente, è che anche vi sia la possibilità di sanzionare l'esercizio privato, chiedo scusa, che stiamo parlando di bar o di ristoranti, che fornisca alcolici o superalcolici ai minorenni ma con più di 16 anni. Perché questo? Perché lo smercio, passatemi questo termine, perché in realtà poi diventa reato ed è punito dal codice penale, di alcolici ai minori di 16 anni è già punito dalla legge. Quindi la possibilità che il sindaco ha è di sanzionare con multe anche dai 250 ai 1000 euro il locale che vendesse superalcolici o ad alcolici ai maggiori di 16 anni ma non ancora maggiorelli. Tra le varie questioni che sono emerse anche l'altro giorno parlando e che faceva notare il mio collega Somalia c'è anche la possibilità, ed è questa una cosa positiva, per i comuni che hanno una stabilità di bilancio, quindi hanno un pareggio di bilancio, la possibilità di, aderendo al daspo del sindaco, di assumere personale di polizia municipale. Questo a noi sembra un'ottima cosa, proprio perché in periodi in cui la percezione della sicurezza è sempre più aleatoria il fatto di poter disporre di più risorse sul territorio sicuramente potrebbe fare la differenza. Queste sono sostanzialmente le motivazioni che ci hanno portato a proporre a voi questa sera questa mozione. Sicuramente avete avuto la possibilità di leggerla, ci siamo confrontati appunto in Commissione Sicurezza, quindi noi crediamo che l'adozione di questo strumento possa essere un buon viatico per il sindaco, indipendentemente da chi sia sindaco o dal colore politico che rappresenti, per maggiormente tutelare l'incolumità pubblica dei concittadini braidesi. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ci sono interventi? Consigliere Isu. Credo che l'incolumità dei braidesi sia una priorità del nostro sindaco ed è al vaglio anche di questa amministrazione l'applicazione di questo decreto legge. Abbiamo visto come in casi di eccezionalità e di urgenza, in particolari eventi come i venerdì sera piuttosto che CIS. Abbiamo delle ordinanze che fino a questo punto hanno funzionato, sono state rispettate, i vigili hanno fatto un grande lavoro e soprattutto la prevenzione è importante. Direi che la situazione è monitorata settimanalmente, il sindaco e il comandante ci hanno relazionato durante la commissione appunto di questo incontro settimanale che pianifica per tenere sotto controllo appunto per monitorare tutte le segnalazioni che vengono eventualmente portate all'attenzione come l'accattonaggio appunto di cui si faceva menzione, soprattutto in alcuni punti dove effettivamente la situazione non è favorevole e non è assolutamente consona visto che creano molestia. L'accattonaggio di per sé non è un reato ma chiaramente la molestia lo può diventare. In commissione sicurezza potremmo discutere al meglio quali possono essere le zone a rischio e le zone da tenere sotto controllo e quindi magari possiamo riaggiornarci. È vero che con il pareggio di bilancio si può assumere però il Ministro si è dimenticato di dirci quanto mette a disposizione per questa eventuale assunzione per cui è nel nostro desiderio ampliare le forze di sicurezza ma bisogna fare i conti appunto con ciò che al momento abbiamo. Il comandante ha fatto presente che mancano ancora le indicazioni attuative e quindi soprattutto per quanto riguarda il DASPO comunale è possibile intervenire solo dopo avere queste indicazioni precise perché altrimenti si potrebbe incorrere a diciamo così delle denunce per abuso di ufficio. Abbiamo apprezzato questa comunicazione, questa mozione, ci trova sostanzialmente d'accordo, proporremmo una variante per quanto riguarda l'impegno e la richiesta al sindaco e alla giunta. Direi che se posso far avere al Presidente del Consiglio una copia di questo emendamento. Ne ho una copia anche per i proponenti. Per i proponenti, grazie. Chiedono che il Consiglio comunale impegni il sindaco e la giunta, il primo articolo sostanzialmente è invariato, a concludere con la Prefettura di Cuneo i patti di cui l'articolo 5 del decreto legge numero 14 del 2017 diretti a garantire e rafforzare la sicurezza urbana. Nel secondo punto, ad assumere entro un congruo lasso di tempo le iniziative idonee a recepire all'interno del regolamento di polizia urbana della città di Brà le norme previste dal decreto legge numero 14 del 2017 per consentire una sempre più efficace azione di controllo del territorio. Il terzo, nell'immediato ad adottare tutti i provvedimenti previsti dal decreto legge numero 14 del 2017 in parte già in atto nel nostro Comune negli anni scorsi con interventi mirati alla prevenzione, a mantenere il decoro, la sicurezza, la vivibilità tanto nel centro urbano quanto nelle periferie. A concordare in sede di Commissione di Sicurezza nel momento in cui siano definite le linee di attuazione del decreto legge numero 14 del 2017 le modalità per agire nelle aree sensibili anche con l'applicazione del cosiddetto DASPO comunale. Questa è la proposta che facciamo come maggioranza Grazie Grazie al consigliere Isu Allora, abbiamo di nuovo alcuni emendamenti Sì, prego, avevo intravisto No, avevo capito sommaglia, ma Marengo, prego Sì, 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 una proposta Tutte insieme Sì, 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 sì Chi è allora? Ah, sommaglia, prego Volevo solo aggiungere un paio di considerazioni rispetto a ciò che ha già ben esposto il consigliere Marengo e poi lascerò lui la parola per quanto riguarda o meglio, lascerò la parola e poi il presidente la lascerà al consigliere Marengo per esprimersi sull'emendamento Ecco, noi diciamo la discussione si è concentrata molto sul cosiddetto DASPO ma volevo ricordare che il testo coordinato del decreto riguarda in generale la sicurezza urbana e proprio questo testo concede, diciamo, dà la possibilità di alcuni interventi quali, ad esempio, la possibilità di inserire delle detrazioni IMU e TASI per la gestione e l'installazione di impianti di sistemi tecnologicamente avanzati per quanto riguarda la videosorveglianza Un altro aspetto che viene già parzialmente utilizzato ma che potrebbe essere in qualche maniera incentivato è il coinvolgimento mediante specifici accordi di reti territoriali di volontari per esempio in zona sono molto attivi associazioni di ex carabinieri per esempio che potrebbero prestare la loro opera ad esempio al venerdì mattina o al mercoledì durante il mercato e quindi essere deterrenti a purtroppo frequenti episodi di microcliminalità di borseggi all'interno dell'area mercatale e un'ultima cosa che vorrei ancora sottolineare è vero che sovente l'accattonaggio non è movesto ma vi sono alcuni casi in cui purtroppo ciò avviene e l'utilizzo del DASPO potrebbe essere disincentivante a frequentare la nostra città da parte a chi da parte dei frequentatori del nostro comune per accattonaggio un'ultima cosa ha già ricordato il consigliere Marengo la possibilità di assunzione di polizia locale importante sarebbe anche quello la lotta contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi ci sono alcune zone della nostra città che ahimè sono frequentati da soggetti che di questo si occupano ci sono dei degli studi che dicono che questi signori qui hanno degli incassi giornalieri che vanno ben oltre lo stipendio di un operario metalmeccanico quindi direi che potrebbe essere in qualche maniera sanzionato e la il decreto legge convertito in legge sulla sicurezza urbana prevederebbe il sanzionamento dell'esercizio abusivo di parcheggiatore o guardamacchina con sanzioni amministrative da mille a 3.500 euro secondo me già solo questa imposizione sicuramente disincentiverebbe l'utilizzo di questa professione grazie grazie consigliere Somaglia consigliere Marengo prego grazie presidente in merito agli emendamenti all'emendamento proposto credo dalla maggioranza complessivamente devo dire mi lascia sempre un po' basito quando in una mozione viene indicata una data o un periodo un lasso di tempo in cui si possa applicare quanto votato e magari poi lo si sostituisce con un congruo lasso di tempo vuol dire tutto non vuol dire niente lo so dobbiamo attendere i decreti attuativi ci mancherebbe altro però visto questo le chiederei gentilmente presidente visto l'emendamento se potessimo fare una breve sospensione in maniera tale che i firmatari della mozione si possano riunire un attimo e verificare se è possibile accogliere elementamento oppure no grazie grazie a lei come già abbiamo fatto altre volte io chiedo anche solo in modo informale ai capigruppo il parere insomma c'era il consigliere all'asia che voleva però però non so se non lo so la richiesta di Marengo anticipa il suo se devo lasciare comunque non so prego grazie intanto i capigruppo ci pensano io mi scuso ma ho un impegno familiare un problema da risolvere per cui se fosse possibile probabilmente io già sarei dovuto uscire dall'aula non potrò partecipare alla votazione e chiedo se sia possibile esprimere perlomeno il mio parere sulla proposta di mozione sull'emendamento avanzato e poi lasciare il tempo ovviamente ai proponenti di fare tutte le valutazioni del caso grazie sì prego consigliere Amagiu quindi per la richiesta che c'era l'Asia va bene quindi parli pure consigliere Amagiu non ho capito ah ok va bene quindi prego consigliere all'Asia quindi dopo l'intervento del consigliere all'Asia possiamo chiedo ai capigruppo possiamo sospendere per un congruo lascio di tempo il consiglio siamo d'accordo colgo l'occasione per giustificare anche il mio capogruppo che ha dovuto abbandonare il consiglio comunale anche lui per impegni pregressi grazie va bene quindi siamo d'accordo allora non ho ricevuto pareri contrari quindi facciamo parlare che c'era l'Asia e poi sospendiamo per pochi minuti la seduta prego grazie presidente un consigliere qui a fianco chiedeva se tornavo no non torno cioè vado e proprio non torno quindi non parteciperò alla votazione quindi diciamo io lascio in questo caso solo degli elementi di riflessione se possono essere utili ovviamente agli altri consiglieri nell'ambito della discussione in commissione sicurezza almeno da parte mia non erano ben chiari i limiti e gli ambiti del decreto legge e quindi anche nella discussione si sono sviluppati dei concetti anche da parte mia che mostravano la non comprensione esatta del testo e secondo me ci sono degli elementi di possibile fraintendimento perché io nel testo del decreto legge rispetto a alcune considerazioni che ho sentito anche stasera vedo vedo delle limitazioni nel senso che per il provvedimento cosiddetto di daspo di allontanamento si prevede nel decreto legge un ambito ben preciso in cui si può applicare tale provvedimento e viene specificato in modo dettagliato sia dal punto di vista diciamo del reato o della violazione come viene chiamato nel decreto del decoro ma anche per quanto riguarda i luoghi per quanto anche riguarda i luoghi in cui sia possibile esercitare da parte dell'ente questa facoltà e per esempio discutendone con un tecnico proprio oggi rilevavo come ad esempio per la fattispecie del parcheggio del parcheggiatore abusivo sia difficile estendere la legge a questa fattispecie diciamo di comportamento per quanto riguarda il provvedimento del DASPO e purtroppo nei casi in cui questo comportamento sia un comportamento non dettato dalla necessità ma sia quello intendo dire dell'esercitare la professione di parcheggiatore abusivo come diceva il consigliere Somalia ma sia dettato semplicemente da un carattere diciamo diciamo pure anche delinquenziale nel senso che si cerca di approfittare come minimo della gente delle persone della buona fede delle persone ecco questi provvedimenti rischiano di non avere molto efficacia perché persone che esercitano tra virgolette questa professione non hanno nessuna cura delle sanzioni amministrative che vengono che vengono eventualmente date da parte dell'ente questo lo dico perché nel leggere attentamente il decreto rilevo come il parliamo dell'articolo 9 se non sbaglio articolo 9 comma 1 questo cosiddetto daspo tanto per semplificare è previsto nel caso in cui ci siano condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e parliamo delle infrastrutture di trasporto fisse mobili eccetera quindi ferroviarie e aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale e questo stesso provvedimento poi è richiamato per quanto riguarda la violazione degli articoli che sono richiamati esattamente che sono poi quello di ubriachezza molesta gli atti contrari alla pubblica decenza la vendita abusiva e per quanto riguarda chiedo scusa questo è per quanto riguarda il provvedimento che era previsto al comma 1 e il terzo comma specifica inoltre come queste aree secondo me qui è difficile fare interpretazioni diverse siano le scuole i plessi scolastici i siti universitari musei aree parchi ecologici complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibiti a verde pubblico dove ahimè il legislatore qui sembra che ponga l'attenzione sugli aspetti di decoro non tanto sugli aspetti di sicurezza perché altrimenti invece di parlare di flussi turistici forse si sarebbe concentrato su diciamo scusate se uso i termini non corretti ma flusso a flusso di persone concentrazione o frequentazione da parte di persone magari anche di soggetti deboli lo specificano le scuole ma in certi casi ci possono essere delle aree come ad esempio i parcheggi che qui non vengono citate che non servono né aree monumentali né musei né scuole che non sono esplicitamente previsti e ahimè temo che le linee guida non possano poi estendere queste specificazioni così precise della legge ricordiamoci poi che le linee guida non sono norme ricadono poi nel gradino più basso per quanto riguarda il fare o non fare la giurisprudenza in sostanza il decreto legge e vado sulla questione della mozione devo dire che a mio avviso la mozione è più come dire accettabile e rientra più nel senso almeno nella mia interpretazione del decreto legge con alcune parti dell'amendamento qua proposto dalla maggioranza perché non condivido il terzo punto deliberato dei proponenti quando si parla di predisporre con immediatezza un azione di controllo straordinario della polizia municipale il controllo straordinario va previsto in caso di emergenza non siamo noi il consiglio comunale che decidiamo è anche possibile se non c'è stata attenzione da parte della giunta ma qui non c'è bisogno di controlli straordinari c'è bisogno di ordinare i controlli di sistematicità dei controlli quindi condivido lo spirito con cui si fa la richiesta ma secondo me se proprio vogliamo andare nel senso della proposta ritengo più e io sinceramente avrei anch'io ho fatto una richiesta di emendamento come la maggioranza sul fatto che andiamo in commissione sicurezza e con le linee guida che a me risultano più che altro essere previste per l'accordo con la prefettura non mi pare che siano previste per l'applicazione della legge e per la modifica del regolamento che il comune eventualmente farà quindi un ambito anche qua molto limitato si vada in commissione comunque sicurezza e si discuta di questi problemi magari andando non magari andando anche nel pratico di situazioni specifiche che rilevano per noi un carattere di criticità quindi non posso dire di no alla proposta di mozione dei proponenti perché è come se dicessi non applichiamo una legge dello Stato questo aspetto non avrebbe senso che io dicessi di no non posso neanche dire di sì perché non ne condivido totalmente l'impostazione un altro pericolo che c'è e secondo me è per questo che è utile e anzi necessaria la discussione in commissione di sicurezza è che come dicevo prima il decreto legge così come è stato convertito in legge pone molto l'accento sull'aspetto del decoro e per quanto riguarda alcuni dei reati che ho citato o dei comportamenti che ho citato come l'ubriachezza molesta ad esempio o gli atti contrari alla pubblica decenza qua si rischia si rischia di prendere dei provvedimenti in aree che noi tutti possiamo considerare primarie perché sono la vetrina della città siamo d'accordo caso classico la stazione ferroviaria ma con un provvedimento tipo d'aspo spostiamo il problema del gruppo di ubriachi molesti scusatemi il termine prima dalla stazione a via Piumati faccio ai giardini via Piumati poi a Piazza Lenti poi non avremo le forze di controllare tutti questi passaggi e di colpire con efficacia a mio avviso è uno strumento in più si diceva no? mi pare di aver colto forse era un pensiero che avevo io è uno strumento in più una norma di legge che dobbiamo applicare secondo me dovremmo avere molto equilibrio nell'applicare questa norma di legge non sono necessari provvedimenti straordinari sono necessari riflessioni che non mirino soltanto a dire spostiamo il problema da un luogo all'altro ma incidiamo dove possiamo sul perché quel problema si manifesta lì e come dice anche il decreto legge questo significa coinvolgere non semplicemente l'attività della polizia locale ma significa pensare a un intervento diciamo globale complessivo in cui entrano tanti aspetti i servizi sociali la scuola è stato detto anche in commissione perché certi comportamenti probabilmente non potrò correggerli molto probabilmente ormai è troppo tardi per correggerli in senso positivo però potrò prevenire delle situazioni sociali che magari sottostanno a quel problema che adesso si manifesta alla stazione perché sono espressione di un nucleo familiare che vive una condizione sociale di emarginazione eccetera mi concentrerai più su questo fermo restando che ci sono aspetti invece dove la punizione la coercizione serve ed è giusto che sia ma farei veramente un ragionamento un pochettino più ampio del decreto legge cioè questo accento posto sul decoro da parte del decreto legge lo sposterei sull'aspetto sicurezza e sociale con i mezzi che abbiamo poi lo so che può essere un'espressione di principio su cui tutti possiamo essere d'accordo ma di più difficile l'attuazione però se non proviamo neanche a darci l'obiettivo diventa diventa poi sicuramente impossibile realizzarlo chiudo prima di lasciare la dunanza e mi scuso ancora con i presenti confermando quindi la stensione nei confronti della mozione proposta dai proponenti e per quanto riguarda anche gli emendamenti proposti dalla maggioranza e quindi la mozione nel suo complesso perché ribadisco condividendo il fatto che si debba applicare una legge dello Stato di tutti questi punti che sono citati sicuramente condivido in forma piena piena il comma 4 dell'emendato da parte della maggioranza in cui andiamo a discutere in modo specifico e cogente quando avremo le linee guida emanate e dove ci potremmo confrontare non solo su dei termini vaghi e di principio del decreto legge ma andando a vedere effettivamente cosa possiamo fare per i punti critici che riguardano la nostra città e che dovranno essere individuati proprio in quella sede grazie allora grazie il consigliere dell'Asia quindi come è stabilito possiamo sospendere e andiamo in sala giunta possiamo salire sì va bene avete chiesto la sospensione per voi tra voi proponenti perfetto 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 per i proponenti chiedo va bene allora i non proponenti stanno qui o vanno a per i proponenti per i proponenti per i proponenti Grazie a tutti. 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 Siamo pronti. Grazie a tutti. 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 60 giorni. Grazie a tutti. 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 Va bene.